non c'è più, ma vi spieghiamo anche il perché allora la centrale di polizia è qua dietro questa fu la prima centrale di polizia con cui avevamo startato la V2 mi sembra, o la V3 adesso non ricordo bene se la V2 o la V3 o tre, o tre che c'erano due centrali bravo, con questa qua, però però, 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 c'è un però è cambiata la grande, oggi l'abbiamo questa l'abbiamo presa proprio oggi questa è freschissima del giorno proprio allora, venite giù sto dietro mi vedi alve perché non tornare alla polizia e al carabinieri, eh mi piacerebbe tanto Ingi, a me piacerebbe veramente tanto tornare a polizia e carabinieri italiana purtroppo la community di 5M richiede la polizia americana ok, questo è il mega parcheggio della centrale ok qua chiaramente ci saranno i bleep per sponare le macchine per parcheggiarle e si faranno le varie ah, sei centrato? arriva, arriva, arriva arriva, arriva, arriva che spettacolo mi piacerebbe tanto fare il poliziotto italiano però purtroppo la polizia italiana non piace non è piaciuta e ti limiti e ti limiti di una gran parte di... in realtà non cambia un cazzo però la gente è truccolodita ragazzi ma guarda che bella questa centrale ma è nuova la prima volta che la vedo ok allora cominciamo da questa porta qua che è la locker room che è praticamente lo spogliatoio dove tutti quanti si cambieranno e a me piace molto l'idea che sia vicino alle pattuglie proprio perché quando uno entra almeno basta che esce fuori ed è già arrivato quindi non deve andare al secondo piano al terzo piano per cambiarsi a tutto quanto qui quindi un poliziotto quando arriva qua sotto ok a tutto quanto perché qua ci sono le venite con me qua ci sono le celle quindi il reparto che quando tu scarichi il prigioniero eccetera eccetera te lo porti qua dentro le celle sono fatte veramente molto bene grazie bro grazie dove cazzo siete finiti le celle sono stiamo giù dove cazzo sei tu ma io sono sulla strada che mi hanno appena investito vieni giù nei garage vieni giù nei garage che ti sta venendo a prendere allora da questa parte qua vedete le celle ok sono solo quattro ce le faremo andare bene chi è questo che mi viene ho ucciso che spettacolo queste sono le celle in vetro così queste sono le celle in vetro così bellissime cazzo e dicono che sono isolate dal suono però dall'audio di gioco adesso non sappiamo se anche col team speak è possibile isolarle però in teoria questa cella qua se tu dovessi usare l'audio di gioco è isolata quindi tu entri qua dentro uno fa casino che fa lo scemo tu lo chiudi dentro e lo lasci cantare da solo che tanto non lo so proviamo proviamo due sale interrogatori ok no è bellissimo l'altra non ve la facciamo anche vedere perché è uguale identica questa è la sale interrogatori di là c'è il vetro per gli ospitali vi sto spoilerando la v4 siamo in v4 quindi l'altro è uguale identica sono due sale interrogatori non sono quattro ma sono due perché una è quella per far vedere siamo su discorso con tutti i ragazzi non posso parlare altissimo con voi si fa i cazzi dalla gente beh ma Hammer c'è ancora? eccolo è qui è qui è qui aspetta che gli faccio vedere la prima parte eccomi eccomi sono rimasto indietro guarda le prime parti aspetta dobbiamo scendere aspetta aspetta che non è finita la centrale sotto entra fai vedere questa è grossa questa è la centrale di polizia questa è lo spogliatore è grossissima questa che roba è la palestra la palestra adesso la palestra la palestra stiamo vedendo di fare una sorta di dato che ci sono una palestra di questa qua è una cosa che vi spoiler però raga ammutolitevi allora questa qua è una cosa che vi spoiler un pochettino stiamo cercando lo script per ingrossare il personaggio cioè quando tu andrai in palestra ok se tu farai attività fisica durante la durante il tuo rp pomperai anche il personaggio lo farai diventare muscoloso quindi il fatto di muscoloso non sarà più una caratteristica del personaggio normale ma sarà una caratteristica che tu farai appunto facendo palestra come nella come in realtà nel gioco reale ah quindi per adesso si può però usare l'attrezza per adesso lo puoi usare se fai così se fai così lo puoi usare però chiaramente se useremo lo script avrà proprio un'attività fisica il personaggio e questa è questo qua in teoria è gli oggetti smarriti no questo è gli oggetti smarriti delle persone qua ci sarà un NPC che ti ridarà in automatico la roba che la polizia ha deciso di sequestrarti ok o l'NPC o ci sarà il poliziotto il poliziotto che te li dà si ho fatto anche la stessa di ginocchio questo è il poligono di tiro ti sei rasato? guarda no il PG per farlo veloce per entrare ah ok questo è il poligono di tiro e Mike c'è? si sono qua ah ok c'è Mike ok ma stai guardando ah stai guardando Mike è il capo della polizia sono il verde dietro di te confessa l'attoghino l'attoghino le moto ci sono Vingi le moto ci sono tutte quelle della V4 della V3 porca puttana con il cazzo di V sono tutte quelle della V3 poi ci saranno anche le moto della polizia che le stiamo cambiando perché ne hanno tirate fuori due buonasera a tutti ragazzi come andiamo? non si può scavolcare siamo solo a restringere che stiamo facendo vedere la città per adesso da queste cose qua questo è il desk della politica ve la faccio vedere già da fuori ok quindi si entra da qua come avete visto prima sembra che vi piace qua questo è il desk della polizia è entrata principale grazie drive grazie mille bravo grazie per la sabbra manca il telefono siamo solo noi 4-5 streamer più caldo la polizia ragazzi che faremo uno per uno davanti a me vabbè pure qui dici chi sei ragazzi uno per uno davanti a me fate la fila fate la fila fate la fila fate la fila allora ragazzi questo è il telefono avanti il prossimo porca la leva sono dacciato avanti la cam aspettate che la metto su avanti il prossimo come si prende il telefono come si prende il telefono te lo passo te lo passo io aspetta te lo ho dato no a fare gli aggiornamenti si che senta che fa no raga bellissimo no ah mi sta facendo l'aggiornamento di apple allora è pubblicità manetta ok overlay lo tiriamo su allora questo è il telefono ragazzi ho tutto sballato ragazzi overlay tutto quanto perché non ero pronto per questa live qua in realtà quindi ho sballato tutto per farvi vedere le cose come sono allora questo è il telefono il telefono è tutto utilizzabile con mouse e tasti col mouse ok quindi fai swipe up per l'unlock per sbloccarlo e chiamate classiche che i borz è da tradurre ok è da tradurre perché è ancora in inglese che è una cosa che succederà tra domani e dopo domani molto probabilmente c'è tutto quanto è proprio un iPhone come tutti quanti in più c'è anche l'app store nell'app store ci sono i giochi ok giochi che funzionano realmente nel telefono che ci potrai giocare all'interno del telefono c'è doodle jump che non so chi se lo ricorda ma ci abbiamo giocato una cifra pacman eccetera eccetera ci sono le app che sono reali ok app reali inerente al gameplay quindi non è che sono app reali fuori non è che c'è il tuo whatsapp di fuori il tuo tiktok di fuori grazie per i like tania alfa mattia vito devora rosa grazie per i like come ne ha venuto e mandarlo a tutti quanti quindi tutti quanti magari hanno un'applicazione vedranno il tiktok ma Mike fa pure le live no no Mike fa anche dentro grau che spettacolo c'è il discord che è reale ok da scena di otta cesta a settimana diventi famoso è veramente reale questa qua questo discord qua è veramente reale quindi ci sarà un discord all'interno del gioco e tra l'altro è il discord dove ci sarà anche tra virgolette per la polizia che ha il ruolo il database anche della polizia questo mi ricollega a questo discord qua perché è un'applicazione che la polizia dovrà avere perché il database della polizia sarà all'interno di quel discord là non ricordo bene perfettamente se si può collegare al discord reale forse sì ma non lo ricordo bene quindi non vi voglio dire una cazzata quindi perché cazzo l'ho detta se non lo so ecco questa qua è l'ignoranza di Alveac questo è il telefono e via e niente spettacoli niente loghi sotto niente stronzate niente copiate è un telefono che abbiamo trovato tanto valgono tutti l'uno come l'altro non cambia niente il telefono lo si usa dentro GTA per chiamare non per flexare il server più bello quindi il telefono sarebbe a quello andiamo? andiamo dove andiamo? dove andiamo? si partirà ufficialmente il 4 di settembre ragazzi il 4 di settembre saremo ufficialmente dicono che manga candy crash da mettere come gioco lo mettiamo ma? ma sta musica cos'è? lo mettiamo tranquillamente cioè rega io sto sentendo una canzone su Spotify si sente una bomba si ma il problema che la stai facendo sentire nel gioco la puoi spegnere? l'ha sentito pure voi perché magari copi no 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 copi no copi ce la scrive ok allora ma si sente anche fuori incredibile la stavi facendo sentire a tutti eh davvero? posso rimanere? quindi ci sarà una squadretta che saranno i detective della città avete qualche domanda ragazzi? perché nello strano americano esiste veramente il detective il detective ecco la figura là che andrà veramente dalle persone che avranno subito una sparatoria e durante e dopo la sparatoria questo ve lo spiegherò alpone grazie per il like ve lo vedo dopo la sparatoria quando ci saranno i feriti magari i soccorsi dall'ambulanza eccetera dato che ci sarà un certo periodo di tempo per il quale non potranno dimenticare come vi avevo ribadito nella VQ3 ok ci sarà un periodo di tempo nel quale potranno non dimenticare ok se loro sopravvivono a quella cosa là poi saranno probabilmente anche interrogati anche se sono vittime di qualcosa perché solitamente il detective va dalla vittima la centrale è molto più bella il detective va dove c'è un omicidio un po' come Lucifer l'avete mai visto il detective va quando c'è un omicidio va dove c'è la vittima e poi dalla vittima risale alle informazioni per arrivare a quali erano i suoi nemici eccetera 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 quindi questa è la 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 sede dei detective ok questo sarà l'ufficio del capo dei detective e e ok perché qua ok basta questo qua è l'ufficio dei detective e molto carino molto bello a me questa centrale qua mi ha veramente colpito tanto raga questa centrale qua Alve senza spoilerare hai già studiato il tuo personaggio si si vingi si 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 bella grazie per le 100 assolutamente grazie mille Andrione dai ragazzi per questa nuova V4 dovete spingere come devi farsi cioè di che cosa stavate parlando che non ho letto del disco grazie mille è lento è un'altra cosa fra la V3 ragazzi quello che c'era nella V3 non lo dovete neanche immaginare perché questa versione qua è una versione che sarà totalmente diversa e non è la Fabio Andrea grazie per il like grazie per il like alcuno è potuto aprire ma qua c'è qualcos'altro dietro di qua no il bagno c'è il bagno basta facciamolo vedere ma va che cazzo ce ne fai del bagno allora poi andando su ma è fichissimo ma come andando su questi qua saranno gli uffici dove ci saranno i bagni io ragazzi vi faccio vedere tutto i vari poliziotti che sono gli uffici personali dei poliziotti questo perché ragazzi perché adesso cercheremo anche di creare un RP veramente del poliziotto cioè il poliziotto difficilmente compila il verbale direttamente nella cella quindi lì si lo farà nella cella ma poi qua avrà il sulfficetto dove magari quando non c'è un cazzo da fare si mette qua e si riguarda le cose si riguarda tutto quanto cioè vogliamo cercare di invogliare a fare un RP reale quando si entra dentro la città vorremmo che guardate che figo le statistiche e questa cosa qua Mike ve la dirà dopo ok perché faremo parlare Mike che è il capo della polizia vi spiegherà come sarà strutturata questa nuova polizia ok è una cosa molto bella io penso che sarò qua stasera la live la faremo tutta qua ragazzi pensate che senza farla apposta poi domani ritorniamo in Q3 ci sono le immagini delle macchine dove partire la bomba e tutto quanto queste sono le macchine reali della nostra polizia quindi è incredibile abbiamo avuto un buscio di culo con questa mappa che è allucinante questi sono altri uffici sempre per e la Matteo grazie per il lacco se non piano più alto potrebbero già starci gli ispettori e le varie i sbirri di merda già la centrale è veramente veramente è un piccione questa qua è la ragazzi che si vede fuori è anche troppo bella questa è la ma qua c'è un piccione senza becco questa è la è la zona mensa quindi qua la vera la polizia rifornisse il cibo di tutte le cazzate che dovrà rifornirsi a bere da mangiare eccetera eccetera qua c'è un'altra sala qua c'è un'altra sala hai visto hai visto il piccione qua la polizia ma che cazzo c'è un problema guarda la polizia ma perché si fa vedere oh Malve perché si fa vedere tutta la cosa dei detective che a gente li odia e come li odi i detective li odia odieranno pure me mi capita un cazzo perché non sei live sto in Puglia ma come mi metto in live qui lo sai meglio di me la connessione ah sei messo male pure tua connessione non c'è proprio sto col cellulare vabbè questa qua è la sala conferenze per quando si chiacchiererà con la polizia eccetera eccetera le varie stronzate della polizia solite e qua che cazzo c'è questa è una sala veramente dove ci saranno i più alti in grado che quando avranno da discutere di determinate cose eh amore mio stasera mi hanno invitato qua a vedere la V4 e infatti a far vedere la V4 che hanno possibilità non va bene perché gli è stato detto che se tu hanno un canale così adesso adesso mettono i proprio i streamer di grado però l'hanno messi non si sa quanti ne hanno messi già ne hanno messo domani sera saremo in città e fare un macello ok questo era l'ultimo piano e questo va giù questo era l'ultimo piano della polizia allora adesso vi faccio sentire Mike che vi spiegherà tu Anto che sei io io abiterò qua dentro come sempre questa magnifica polizia cosa faremo noi ragazzi quindi Mike a te la parola in bocca al lupo cagati tutto allora si cercherà di portare un bel po' il full RP in polizia quindi ci sarà sempre reparto investigativo SWAT si cercherà di fare che sta parlando puntatevi un secondo fate parlare Mike si sentirà si vedrà l'investigativa finalmente in campo senza maschere ma con una divisa da investigatore quindi si cercherà di portare un po' di full RP in polizia cercheremo di abbandonare un pro scusate l'aggettivo il tryhard in polizia quindi non è un brutto aggettivo è una bella purtroppo il tryharding c'è Mike è uno di quelli che è contro il tryharding nel senso che odia giocare a questo gioco a livello competitivo ma mi piace molto di più parlare infatti Mike è stato un portatore di RP sano grazie a Dio e lui dato che sarà il primo esponente della polizia quest'anno ha deciso veramente di fare una grossa 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 tavola rasa in selezione dei tryharding in modo da portare un ottimo RP parlato vai Mike scusa è logico che ci saranno quelli che sono capaci a sparare nel reparto SWAT ma naturalmente verranno solo esposti quando ci sarà bisogno come stai il 90% sarà tutto parlato si cercherà comunque di affrontare aiutare le gente anche in strada anche in infermi quindi portare a divertirsi anche fare un fermo per noi vuol dire divertimento farti due risate due battute cosa ti sei bevuto cosa ti sei fumato e quello è il bello secondo me di questo gioco ci proveremo inizieremo con un'accademia quindi ci sarà un'accademia iniziale per addestrare tra virgolette questo PG l'ho fatto velocissimo per entrare ci sarà sempre l'investigativa naturalmente ci sarà sempre la SWAT e vedremo il da farsi ci sono tante cose nuove abbiamo un MDT che sarebbe il nostro tablet di servizio hanno fatto i script te o altri delle cose spettacolari quindi non avremo più problemi su quel lato lì vogliamo avvisare che comunque i documenti li faremo noi non ci sarà più il governo che farà i documenti quindi vi dovrete venire qua in centrale per fare i documenti appena entrate in città e basta aspetta che mi dicono di alzare un po' i volumi delle voci che si sentono basse no no però ragazzi sapete che non so come fare parlate un attimino ragazzi sotto prova no no prova provanti si sentite bene sono al massimo sono in realtà no 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 sul discord e le alze no no ma prendi ancora punti carta e pene sono i tablet no no si no si si dicono che si sente bene ok no dicono che si sente bene alcuni purtroppo sentono male altri sentono bene ma magari perché hanno il volume un po' più basso perché magari la mia voce è più alta e la loro è più bassa vabbè queste cose qua le sistemiamo durante le dirette ragazzi purtroppo per sistemare gli audio e queste cose allora voi dovete sapere che io sono torata Milano che ho praticamente disinstallato tutto al computer ho fatto un reset totale del computer l'ho confessa l'ho ripulito del tutto e come si dice l'ho quindi ho dovuto rifare tutto quanto e purtroppo solo in live mi accorgerò se ci sono dei bug a livello di streaming ma questa volta le sirene della volante sono americane sì 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 ma quella là allora le sirene della volante ragazzi erano italiane solo per me perché io avevo un come si chiamava un 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 in effetti facciamo un po' cagare sentire le le anche se a me la sirena italiana della polizia mi fa impazzire però vabbè eh niente ragazzi allora vi ho fatto vedere la centrale questa è la nuova centrale di polizia eh come vi ho detto ragazzi adesso io voglio sapere non so quante persone del server ci sono dentro perché tanti magari sono persone che seguono me e non sono del server adesso io insieme a tutto lo staff quindi tiriamo giù c'è Teo dentro e basta chi c'è dello staff dentro Discord? un attimo ok mettetemi su un po' di persone c'è Axel della community della community del server chi vuole entrare può entrare adesso in tecniche varie ok entrate in tecniche varie adesso vi sposto nella stanza dove siamo vi chiedo la cortesia di non dire parole bannabili non perché bannano me ma perché sareste dei rincoglioniti se lo fate quindi mi raccomando per educazione per rispetto di quelli che guardano non dite parole bannabili e non dite cazzate ok ci sono spoiler ok stanno entrando tante persone in tecniche varie penso che siano persone che vogliono entrare dentro qua fatele entrare Steve spostati tutti in chat in live Alve la cosa bella è invitato le persone più arrestate della butter è il mio primo tango Steve dove è andato? ma è la seconda volta che mi ammazzano ragazzi qualcuno che mi sposta ok mi sono dimmi a me dimmi a me Alve mi spostate su le persone che ci sono nelle tecniche varie le spostatele tutte qua ok le sposto io sto morendo ti sto aiutando ma non lo so come funziona tutte quelle che stanno entrando in tecniche varie spostatele qua eh ti metto il ginocchio sotto le mani allora perché adesso Mike con queste persone qua che probabilmente sono anche quelle che magari hanno subito qualcosa dalla polizia eccetera eccetera cerchiamo di trovare delle soluzioni appunto per evitare che ci siano dei rancori dei sgrezi delle varie situazioni magari possiamo cambiare qualche regola trovare qualche soluzione in modo che tutti quanti capiscano allora voglio dirvi una cosa ragazzi voglio dirvi una cosa che questa cosa qua è importante e l'ho già scritta nella chat ci tengo a ribadirla adesso davanti a tutti quanti in live e allora per mio volere per mio volere ok quindi non del mio staff o dell'incompetenza del mio staff ok per mio volere all'inizio della V3 avevo chiesto la cortesia di far sì che le storyline quelle più importanti della città rimanessero il più a lungo possibile ok attenzione storyline io non intendo lo streamer perché è la streamer io parlo di qualsiasi storyline perché vi garantisco che ci sono state due o tre fazioni che non ne avevano streamer all'interno perché tanti hanno avvitato magari Hammer come il protetto ma vi garantisco che c'erano tante altre fazioni ok che erano che non avevano streamer all'interno eppure venivano si tentava di di far sì che la loro story REN potesse continuare andare avanti ci pensiamo quest'inverno no 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 la scimmia non è il luogo nuovo questa qua è un server test ragazzi la scimmia non è il luogo nuovo il luogo nuovo lo presentiamo quando quando sarà ufficiale ufficialmente pronto è in preparazione ed è quasi ed è c'è anche storyline che però purtroppo dall'altra parte erano già cadute da tempo ora che cosa è venuto fuori ragazzi che a un certo punto quando poi la polizia che si era stancata che aveva tutto quanto in mano per poter far finire quella storyline lì veniva bloccata e questa è una cosa che è reale che è realmente esistita ok poi chiaramente c'erano quei ribelli della polizia i ribelli che è giusto che siano stati dei ribelli perché dicevano Albe ma scusa ma allora io che cazzo faccio in polizia che non possa restare la gente se tu mi limiti il mio gameplay perché vuoi far andare avanti le storyline fondamentalmente quel ribelle là ha totalmente ragione e sono dispiaciuto di quello che è successo mi dispiace davvero tanto perché la polizia ha ruolato veramente molto bene e sono orgoglioso della polizia anche della criminalità non che la criminalità vada meno vada meno però voi avete sempre notato ma perché state crashando no oh no ti è crashato un giocatore davanti a me voi avete sempre notato che a me fondamentalmente quando quando mi accorgevo che la mia fazione aveva fatto degli errori mi facevo arrestare o per mare e vorrei che tante persone nella criminalità questa non la pensassero così dai amore miei però dobbiamo salire scrivete poi sta chat ma vi sta piacendo quello che stiamo facendo vedere oppure no nella v3 ok quest'anno sarà un anno veramente veramente equo ok nel senso che non ci sarà più tutela non ci sarà più non ci saranno non esisteranno più i tentativi di portare avanti le storie nell'infinito perché siamo dentro dalla v1 perché noi siamo stati padroni di grau siamo entrati prima noi no chi sbaglia nella v4 paga paga non col ban attenzione perché grau tenterà sempre di non bannare nessuno chi è stato bannato da grau è perché è veramente un cazzona variato che non c'è stata proprio speranza per lui ma penso che neanche l'umanità abbia più speranza per lui da chi è stato bannato da grau ok perché grau è un server che ti dà un miliardo di possibilità e quando hai bisogno ti aiutiamo sempre e troviamo una soluzione per aiutarti a migliorare ad andare avanti come si dice la questione è che chi sbaglierà nella v4 chi sarà la fazione che avrà un capo fazione che è un testa di cazzo che ha assunto dei rincoglioniti sotto di lui e che hanno fatto dei danni nella v4 pagherà pagherà caro pagherà con la perdita di tutto quello che ha creato che poi questo ragazzi vi dirò tante persone sbagliano proprio il concetto di rp lo sbagliano totalmente cioè vedono si vedono morti dentro un server basta io me ne vado a sto server vaffanculo che schifo ecco questa è la è la gran cazzata che fa il player medio stupido perché a volte ricominciare è anche bello guardate quanto sono scemi ma fare le riprese dai dai a volte ricominciare è anche molto bello io e Natalino io lino iranera anche tanti abbiamo ricominciato tante volte e ricominciare è una cosa bella perché ragazzi dopo un po' fare sempre lo stesso rp mettiamo caso se io dovesse entrare in polizia ragazzi io non voglio finire la stagione in polizia non me ne frega un cazzo cioè io durante la mia città nuova vorrei costruire varie cose chiaramente non voglio fare il personaggio multiplo perché non ha senso non ha senso logico proprio però mi piacerebbe veramente tanto iniziare magari in polizia e diventare una gang avere un lavoro legale magari senza fare né il maleditoso avere solo un lavoro legale e far andare bene la legalità e diventare avvocato diventare giudice è il bello dell'rp è che ti dà la possibilità di cambiare tanti tanti ruoli sì è vero che il personaggio è vero è vera la cosa è variato anche io la penso ok cazzone quest'anno magari cambieremo un po' di pg un po' di volte cambiare bello cambiare bello perché ne pensate preferite più la storia lunga che dicevo finalmente ci siamo liberati di questa rotola di coglioni andiamo a fare altre ci divertiamo perché comunque ricominciare è sempre bello oppure è una roba un po' più ok magari più spinta però corrischia di bello oggi Hammer su Gangnam Style che è stupendo veramente no ma Gangnam Style è qua dentro e guarda che bello guarda come fa è bellissima i lady oh è un po' figo e quindi raga quindi chiaramente Hammer ad esempio che è stato uno di quelli che diciamo che la sua storia si è cercata di tenere più più in piedi possibile e chiaramente tante volte si è chiesto ma com'è possibile che la polizia sappia questo sappia quello quello là allora chiaramente ci sarà una regola ferrea che abbiamo deciso di attuare quest'anno sulle appunto la conferma delle informazioni che vengono fornite ok quindi quest'anno vi posso garantire che qualsiasi informazione e qualsiasi cosa viene detta dallo staff mi è crashato Discord sono le tecniche varie fra ok mi spostate Ruben ma forse non possono parlare qua dentro perché ne avete spostati un po' prima perché non parlano possiamo parlare ah ok potete ma c'è pure Nomegi si ci sono ci sono anche se ho parlato non vogliamo però adesso sono tutti quelli che vogliono parlare e quindi quest'anno qualsiasi cosa dire se uno staff dire domani ritorniamo in V3 e basta non perché non voglio che venga messa in discussione la parola dello staff no non per quello ma perché vi garantisco che la regola che ha lo staff quest'anno per stabilire se un'informazione è lecita o meno è veramente ferrea quindi se lo staff dirà che è perma vi garantisco che non avete speranze quello è perma ok o ergastolo vi garantisco che non avete speranze perché la polizia dovrà fare delle indagini approfondite dovrà avere la chiarezza in tutte le indagini che porta l'onestà nelle cose che ha fatto e se si nota che c'è del metagame o delle stronzate che ha fatto la polizia perché ha voluto barare ok non verranno a segnare quindi vi garantisco che qualsiasi cosa dirà lo staff quest'anno è reale ok nessuno è contro nessuno nessuno ciao bello benvenuto come stai non ce ne frega assolutamente un cazzo di favorire qualcuno perché non ci interessa guardate anche queste immagini che belle guardate che roba come abbiamo certo no infatti demo è vero infatti in effetti è vero però l'ho detto demo prima l'ho detto prima che purtroppo sono stato io a limitare determinate azioni da parte contro la criminalità da parte della polizia quindi sono stato io a fare questa stronzata qua no ma infatti le assistenze questa cosa qua anche voglio chiarirlo un attimino le assistenze quest'anno saranno diverse ragazzi le assistenze saranno vieni in assistenza porti la tua clip lo staff velocemente analizzando le clip Giorgio grazie Ciccio Andrea Brian Sam Marcello Mirko grazie per il like Marconi grazie a tutti ragazzi la competizione crea dei disastri incredibili mi piace sto pensettino di V4 facendo mantenere la calma i player all'interno darà la sua versione si esce dall'assistenza chi vuole contestare rimane una sola persona che vuole contestare fa la contestazione porta le sue clip rimane quello che c'ha le clip tutti gli altri tornano in RP e ritornano a fare RP la prima cosa che dice lo staff è già valida se lo staff lo staffer dovesse aver sbagliato quella è una cosa che poi verrà presa in carico dal server quindi se è stato fatto per sbaglio un rimborso eccetera eccetera di qualche cosa quindi magari in un'azione da loot vengono date delle pistole l'azione quella là deve finire poi se lo staffer ha sbagliato noi vi diamo le pistole tranquillamente quindi qualsiasi cosa avete perso soldi, denaro fama eccetera eccetera si va ad annullare l'azione una volta che si è annullata l'azione si vanno ad annullare anche le informazioni una cosa che vi chiedo ed è l'ultima poi faccio parlare ai ragazzi che sono entrati adesso una cosa che vi chiedo è ragazzi voi dovete capire che noi siamo grazie per la condivisione Marco grazie per il live gestire il gameplay di tante persone non è semplice per niente non è facile è difficilissimo sembra facile tante volte entrano le persone arrabbiate che ti smadonano addosso e non sanno che ti hanno già smadonato in 40 un'ora prima non il giorno prima io vi chiedo una gentilezza io ho istruito lo staff di Grau ad essere sempre umile a dare sempre tante possibilità ai player ad essere educato a non abusare di potere di potere che è la cosa più schifosa che succede nei server italiani perché succede in tutti i server italiani succede questa cosa qua con la affere esaltati che abusano di potere sbagliato l'applauso non vorrei mettere la camera ok quindi senza che vi dico il nome tutti escluso Grau perché Grau è la mia politica una politica che non vuole assolutamente questo all'interno del server il player ha mille possibilità ha la possibilità di sbagliare non viene bannato se sbaglia se sbaglia e ama il server ok dentro Grau vengono bannato sui troller e persone che sono veramente veramente proprio irrecuperabili grazie ragazzi grazie a tutti le sapete che state donando grazie ragazzi e noi non doniamo niente maledetti mamma mia sarà addormentato e va bene e adesso facciamo parlare i ragazzi che ci sono qua aspetta che cambio là vediamo se c'è lo schermo su Grau la V4 di Grau Daniele stiamo facendo vedere la V4 di Grau aspetta che ve lo sistemo così vedete il discord questa adesso è la centrale di polizia allora chi è che vuole parlare? io chi sei? sono Topper identificati sperimenti ciao Topper ciao una domanda sua veloce Candy Candy puoi riaverla a pallina di neve? si è sciolta per piacere voglio una palla di neve capite la parola che me l'ha fregata ma che cazzo ci avrai da ridere porca puttana non ride nessuno qui era bellissima ragazzi la palla di neve fra Mike e Candy è stata epica è stata epica la gente Blue Prime Blue Prime grazie amore mio grazie epica amore oh date me la palla di neve per mai persone regalo prego crab crab tu che sei tu che sei tu che sei chi sei chi sarà? non lo so manco io mo sto ubriaco se te può fa piacere eccolo là bella da te va bene di chi è entrato? chi è che vuole parlare? siamo io e Ilo Alve vai qual è il fatto ci sono delle domande no in teoria siete voi che dovete dire quali sono state le cose che vi hanno reso perplessi nella V3 eccetera eccetera si può fare qualcosa per non far rubare le macchine troppo facilmente mi ritrovo sempre senza macchina di solito eh Ruben questa qua è una cosa che devi chiudere la macchina fra se no se volete fare delle domande io ve le leggo poi qua faccio rispondere dallo staff quello mi rende che ci hanno perplesso almeno dal mio punto di vista direi magari ecco evitare anche quel soft flame capisco che magari il flame quello che rende viene punito però anche il soft flame le frecciatine queste cose qua sarebbero evitate perché portano magari al flame diciamo che io è la cosa che mi fa incazzare molto di più è proprio quando una persona matura ti viene vicino almeno una persona che ripete dove deve parlare con Renato allora ti viene vicino e ti fa questo il soft flame ragazzi è quella cosa là ad esempio cioè guarda questo guarda questo cioè minchia ma guarda questo non è capace non sei capace questo qua è tipo un soft flame che si fa di solito durante le azioni che poi alla fine se volete fare qualche domanda ragazzi mi raccomando siamo qua a posta stasera per volervi vedere le cose e chiarire le azioni ed è impossibile è impossibile da controllare ragazzi però torniamo questo buon senso dei player esatto purtroppo torniamo al solito discorso che noi siamo qui per aiutarvi siamo qui per far di tutto per farvi giocare bene per farvi essere felici e per far e per far sì che la città sia perfetta e raga io se c'è uno che vi dice che siete dei pezzi di merda non è colpa mia non è colpa mia ok e come tutti quanti questa persona qua verrà presa in disparte gli verrà fatto un discorso e non verrà bannata alla prima storia quindi non venite a chiedere il ban per quella persona perché il ban è una cosa che decidiamo noi i richiami è una cosa che sono interni a noi quindi voi non vedrete nel disco neanche più i richiami perché i richiami non servono a voi per farvi avere il cazzo più grosso quando avete vinto un'azione e gli avete fatto prendere anche il richiamo all'altra persona i richiami servono a noi per capire quel player quanto sia adatto per stare all'interno di questo server qua ok quindi non è una non è una non è una gara che se voi venite in assistenza ma quello mi ha detto stronzo mettigli il richiamo mettigli il richiamo mettigli il richiamo no no il richiamo viene messo in base a quel cazzo che decidiamo noi e perché lo decidiamo noi ok ed è una linea guida per noi è una linea guida per noi per capire se questo player è in gamba per poter stare qua dentro cioè magari paradossalmente teniamo una persona che ha 10 richiami ma poi non ne ha più presi perché magari quei 10 richiami gli sono serviti per migliorare cosa che tanti player hanno fatto all'interno di questo all'interno di Grau ragazzi c'erano player che erano disumani disumani ma anche perché chi inizia regà non inizia da zero cioè chi inizia da giocare la prima volta i richiami li prende è ovvio noi noi per bannare una persona dobbiamo proprio 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 avere una una motivazione incredibile ragazzi quindi questa cosa qua è importante che sia chiarita e e che appunto venga detto che non siete voi a doverci chiedere a noi di mettere i richiami perché come vi ho spiegato i richiami sono una cosa nostra che serve a noi per capire quanto per essere in gamba per poter stare qua dentro chi vuole fare un'altra domanda posso farla io sì e volevo chiedere appunto sui richiami come funzionerà richiamo 1 richiamo 2 richiamo 3 ban no 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 non è non è non è non è una corsa richiamo perché ora ti spiego perché questa politica qua non può reggere è una politica vergognosa che utilizzano tantissimi server allora se tu sei un player che gioca all'interno del mio server un'ora al giorno hai un margine di errore che è relativo ok quindi tu se in un'ora si prendi tre richiami sei un cretino ok se bannano ma è ovvio raramente tu in un'ora ti prendi tre richiami ci sono persone ragazzi che ruolano all'interno del server 13-14 ore ma non per scherzo raga hammer è uno streamer che inizia a luna del pomeriggio e finisce alle 2 di notte alle 3 di notte ok un player come hammer che gioca a 14 ore se io gli chiedo di sbagliare solo 3 volte tra 2 giorni lo devo bannare tra 2 giorni lo devo bannare ma non perché hammer è scemo che sbaglia ma perché è impossibile che hammer in 24 ore di gameplay non sbagli è difficile sbagliare il senso del richiamo è anche capire una persona che cosa ha fatto realmente hammer è un player che probabilmente quando gioca hammer crab meh siamo player che giochiamo tante ore ok siamo player che non possiamo prendere non può valere la regola dei tre richiami non esiste la regola del terzo richiamo e vieni bannato ok quindi questa regola qua è una regola che già avevamo escluso nella v1 che solo alcuni staff perché sono i ribelli di grau le teste di cazzo che io ho allontanata adesso ok i ribelli di grau mi contraddicevano e facevano così ma questa è una politica che non può reggere perché come ti ho detto io sono padre di due figli sono marito con un marito e vi garantisco che sbaglio nella mia vita e la v4 e pura ti sarò sbagli in un cazzo di gameplay vi stiamo facendo vedere quello che sarà figuriamoci se nel gameplay devo essere il santino con la cazzo di Aurelio in testa è impossibile questa cosa qua sbaglio ho sbagliato pure io che sono l'owner ma non è che mi mi devi cacciare la tua server e quindi io non caccio le persone che amano il mio server che lo rispettano e che purtroppo in quell'occasione l'hanno sbagliato perché sono umani cazzo Marco ma hai donato 50 sub stasera fra 10 sub ma scusate ragazzi non l'ho neanche ringraziato a questi ragazzi Marcone 10 sub anche a me dopo vi ringrazio vi amo quindi questa politica qua è noi vogliamo 10 sub regalate ragazzi lo facciamo vedere che siamo di meno unicamente per capire a noi quanto questo player sia valido Domenico lascia perdere quello che ha scritto attenzione attenzione sia chiaro e dato che il ban non viene effettuato in queste circostanze qua ok quindi col terzo di chiamo il secondo e terzo di chiamo questo non significa che se io noto che tu stai facendo un'azione e appositamente sbagli me la vai a sballare eh ci sta perché stai facendo lo stronzo perché sai che fino a oggi ti sei comportato bene e io non ti banno voglio che voi sappiate che non esisterà più in questa versione qua l'azione abbassate la mia live voglio che voi sappiate che non esisterà più in questa in questa versione qua l'annullamento dell'azione se noi ci accorgiamo che un'azione va vinta da un'altra fazione a prescindere perché quella fazione là è stata più corretta ha fatto tutto quanto bene l'altra ha fatto schifo magari anche appositamente pur di vincere ok non ci sarà più l'azione annullata in alcune determinate circostanze l'azione verrà data vinta alle altre persone ergo non fare combat login apposta quest'anno non lo fate perché tanto vi viene annullata l'azione la perdete pure quindi voglio dire una cosa Alve scusa ragazzi quando fanno le azioni dovete valutare tutto viene valutato tutto buonasera Giacomo come stai bello mio valutato se ci sono persone nelle live a guardare la live e tante cose non è che le azioni vengono annullate per quello che pensate e poi basta adesso arrivo adesso finiamo la live e poi arrivo da Nadir fallo aspettare un attimino comunque capito quindi la questione richiami funzionerà così e appunto come ti ho detto non è che perché il richiamo non è che il richiamo è preso sotto gamba attenzione lo vediamo noi noi sappiamo quante volte è stata richiamata una persona e io mi accorgo che tu sei un player che in 10 giorni ha preso 15 richiami 20 richiami io ti mando a fancuro ok quindi ti rispetto ti voglio bene però se mi accorgo che tu entri nel gameplay e fai solo danni una cosa che è sicura questa che noi osserviamo le persone che sono borderline all'interno del server quando c'è una persona borderline non viene abbandonata e come in tanti in tanti casi ho provato io a fare e purtroppo in alcuni ho fallito ma perché io non sono un player che ruola tanto io ruolo solo le mie tre ore la sera per portare la mia diretta e per far divertire le persone che mi guardano e questo player non viene abbandonato il player che noi ci accorgiamo che è un player che è sbagliato o che sta facendo qualcosa di sbagliato non lo lasciamo lì da solo ma lo aiutiamo lo aiutiamo a seguire un percorso lo aiutiamo ad affiancare a delle persone che magari sono capaci a ruolare e a persone che hanno anche il tempo da dedicare perché ad esempio Hammer è un bravissimo trascinatore Krab è un bravissimo trascinatore però non sono persone che hanno il tempo di insegnarvi a giocare non possono farlo perché sono streamer hanno da portare il loro contenuto devono portare la loro diretta sono molto bravi ad accogliervi ma non sono più bravi a gestirvi come me io ad esempio avete notato nella mia fazione avevo delle teste di cazzo che hanno rovinato totalmente la mia fazione anche io uguale e purtroppo ci siamo ritrovati ad avere delle conseguenze inevitabili inevitabili perché anche io ho fatto uguale conseguenze inevitabili da parte della polizia da parte di tutti quanti e mi sono ritrovato come un test di cazzo ad essere permato o ad essere ergastolato non sapevo chi snitchava non sapevo come si chiamavano il mio errore l'ho riconosciuto non era colpa mia io ero bravo a fare il mio RP era colpa delle teste di cazzo che avevo sotto che mi hanno rovinato l'RP facendo gli snitch cantandosi eccetera eccetera quindi tutto qui io non mi ricordo che cazzo stavo dicendo quindi questa persona stavo dicendo bravo la persona che verrà richiamata la persona che verrà richiamata varie volte che è borderline come vi ho detto non verrà abbandonata gli si mette a fianco qualcuno staff compresi staff compresi ok aiuteranno questa persona qua a rinserirsi nel gioco a evitare stronzate fino a chiaramente a un limite che è quello dell'essere umano ok la maestra d'asilo quando va all'asilo ha a che fare con dei bambini non li deve picchiare noi abbiamo la sorta di regola della maestra dell'asilo e qua dentro accetti 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 ma se un bambino poi è troppo scemo chiami suo padre gli dice ascolta portati via sto rincoglionito perché non l'ho capito con chi è che stava parlando una porta stava parlando ah stava parlando vabbè altre domande ti faccio io una domanda lo staff yeah allora io Angelo ciao buonasera allora allora lo staff che gioca in oc può cambiare la storyline a un player non tutto gioca in occhi allora lo staff che gioca in occhi allora ok tu parli tipo di cartello mercato nero mercato nero via avanti sì possiamo farlo allora all'interno della città all'interno della città ci sono quelli che voi tante volte non lo capite purtroppo tante persone non l'hanno mai compreso che si sono sentite toccate da questi personaggi qua ci sono dei personaggi come crab come me come eddor come hammer axel eccetera che si chiamano tra virgolette in un roleplay si chiamano i master ok dovrebbero essere quella sorta di persone che in teoria danno rp alla città ok dare rp alla città non è facile ne diamo tanto ragazzi ne diamo tanto quando noi abbiamo dovuto creare i master purtroppo questo è un po' un handicap che ha il nostro server o che ha comunque parte della community tante persone vogliono entrare dentro una città e avere rp quando in realtà in una cazzo di città tu dovresti entrare essere autonomo e l'rp te lo dovresti creare esattamente io quando sono andato nel cazzo di server americano mi sono creato il mio rp nel server americano sono partito da zero sono andato da un testa di cazzo che parlava l'americhese e non ci ho capito una minchia sono andato a raccogliere l'uva il vino quel cazzo che mi ha fatto raccogliere lui sono un coglione che ho sbagliato tutto ed è difficile è difficile ricominciare da zero soprattutto se sei da solo è molto difficile grande Andreone bello bello grazie a te le 100 sono quelle persone che sono state create apposta sono quelle persone che tentano in modo o nell'altro di dare rp alla città angelo risponde alla tua domanda in un modo sano cerco di risponderti in un modo purtroppo per portare rp alla città io non sono mai stato volento o nell'entra alcune volte lo devi togliere a qualcuno perché esempio mettiamo a caso io dovesse entrare in polizia no bro ma la domanda la domanda che ti ha fatto lui è un'altra ho capito che stai di tu la domanda che ha fatto lui è se lo staff oggi può condizionare il gameplay del player ma cioè cioè se glielo può in qualche modo distruggere in qualche modo capito come ma se mi accorgo che uno staff no bro non lo può fare noi dobbiamo equilibrare esatto noi siamo noi che stiamo lì come io quando faccio il cartello siamo per equilibrare poi a volte succede che c'è magari un errore di incomprensione come è successo ultimamente e succede qualche fatto strano che poi dobbiamo cercare di recuperare in rp ma in realtà uno staffer o una persona un master o una persona che è o c non deve assolutamente condizionare il gameplay del player allora una cosa che è importante che voi dovete iniziare a imparare a vedere lo staff di Grau e io lo comprendo che tante persone che arrivano da altri server non hanno questo concetto ok lo staff di Grau non sono i giudici di sto cazzo lo staff di Grau è un centro assistenza ok quelle persone che voi vedete alla destra del discord sono lì per aiutarvi a voi non sono lì per affossarvi per giudicarvi per puntarvi il dito e per farvi bannare appena fate la prima cazzata quello lo dovete vedere l'assistenza si chiama assistenza l'assistenza e quegli staff perché sono lì a fianco nella colonnina del discord sono persone che sono lì per aiutarvi quindi io quando vi chiedo la cortesia di essere gentili con loro anche se un'azione per sbaglio ve l'hanno giudicata male perché come abbiamo ribadito prima come voi player siete testi di cazzo come me sono una testa di cazzo all'interno del game anche un cazzo di staffer dopo 4-5 ore che gratuitamente decide di stare qui a subirvi le vostre pianistede in un cazzo di gioco di merda può sbagliare raga è assolutamente umana questa come cosa è una cosa che capiterà tante volte perché purtroppo capiterà questo non deve creare un precedente né da parte dello staffer e né da parte del player questa cosa qua deve essere una cosa che è stato un errore non fai niente si va avanti la prossima volta non è che ti giudica un'azione quella persona lì allora no l'altra volta ha fatto schifo ma non lo voglio più no non funziona così perché quella persona lì è lì per aiutarvi lo staff è qui dentro per aiutarvi qualsiasi cosa voi doveste avere bisogno da parte nostra noi siamo qui per voi siamo qui per aiutare voi cioè la regale gli errori che abbiamo fatto e ci stiamo battendo tuttora tutti i giorni ormai stiamo parlando di questa cosa dei staff stanno per migliorare perché lo staff obiettivamente gioca perché comunque uno staff può anche giocare però dal momento che gioca non è uno staff è un player basta giusto questo mi piace e quando è un player si prende tutte le conseguenze deve essere un player a prescindere se è uno staff non si può fare le cose a modo suo tutto qua se c'è stato qualche errore è passato qualcuno è uscito fuori il messaggio dove c'è scritto il messaggio perché il mercato nero ha condizionato un po' l'RPD Hammer non è vero non è vero infatti vabbè ma al di là di questo è la polizia che l'ha condizionato per un errore mio che mi sono già preso il responsabile perché dovevamo fare una cosa invece ne è uscita fuori un'altra perché c'è una domanda di Giovanni Alve valuterete la modalità di acquisizione delle informazioni per le azioni di gioco Giovanni forse non c'eri prima sì l'ho detto prima allora come ho detto prima lo ripeto ancora non è un problema se uno staff dirà che quello è PERMA o che quello è ERGASTOLO vi garantisco che questa volta è così questo perché perché abbiamo un sistema di acquisizione delle informazioni di conferma delle informazioni che vengono portate dai player che è molto 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 rigido perché andremo a vedere se quel player là il progetto parte dalla view dal day 1 ma voi domande non ne avete ragazzi non avete qualche domanda da fare che la leggiamo e ci facciamo rispondere avete sempre le meno curiosità quando giochiamo non mi viene nulla in mente da chiedere all'ultimo giorno io spero che avete qualche bella domanda da fare voglio leggere anche io qualche domanda vostra e capiscono se qualcuno ha fatto un'idea infatti c'è una squadra di staffer che fa solo ed esclusivamente questo conferma delle informazioni se trappa su tecniche di bevare cazzo trappa non gli ho detto di farla live porca troia sono un coglione il problema il problema è che oggi in poi ci sono dimenticati raga porca troia a tutti ogni conseguenza sarà certificata dalle prove che saranno prese in caffetteria dov'è la chat live dov'è il canale live dimenticate anche l'ho già spossato io buonasera 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 ciao a trappone quindi vi garantisco che il discorso che domanda conferma delle azioni conferma delle di rita di delle informazioni è veramente veramente molto molto rigido quindi non esisterà più lo snitch che va dentro a far casino e viene confermata la cosa e tutti quanti sputtanati in città no questa cosa qua non potrà più esistere alve il lavoro mi impedirà di seguire tutta la live no ma tanto tanto io penso che non dura ancora tanto questa live qua ragazzi adesso queste serie qua saranno live appunto per introdurvi passo a passo fare parte della città e parlare appunto di queste situazioni qua chiaramente questa sera c'è la polizia di mezzo ed è un pochettino più più intensa e più lunga quindi è bello anche parlare di questo domani toccheremo ancora il discorso regolamento quindi vedremo delle cose che non vi sono piaciute che vi sono piaciuti della V2 e la V3 porca troia ma che palle queste versioni ma perché mi continui a fare della V3 che non vi sono piaciute e cercheremo di farvi vedere l'R.P. fino alla fine sempre che non mi arresta se ci sarà da portare modifiche il regolamento si apporteranno altrimenti terremo quello che è quello dei F.M. semplicemente allora G.K.P. la storia della maschera come andrà a finire e me lo spieghi nelle prossime live allora questo è un discorso che non tocca adesso perché ho bisogno di tutto lo staff ok e ho bisogno che anche la community mi dica cosa vuole fare perché questi sono la storia maschera è un cambiamento veramente radicale dell'R.P. italiano a dire la verità Simone non è una cosa che tu sei obbligato a fare quindi se io cambio la discussione maschera ti riconosco lo stesso è un bel cazzo di problema perché la gente inizia a tiltare è un altro gioco poi possiamo far vedere Alve la storia della radio ce l'hai una radio addosso tu la storia della radio che devo dire allora tipo adesso tu vai su di me fai alt e fai richiedi richiedi radio ma io non c'ho la radio te la passo io passa Angelo fai richiedi radio mi puoi per favore cancellare un commento che a me non mi ha fatto togliere alt e fai richiedi radio ma io non c'ho la radio non me la data ma è la radio dagliela Steve mettiamo il tuo numero il 6 ok te la passo ok ora ce l'ho ok vai su di me fai alt e fai richiedi radio innanzitutto come si aveva detto di si per quello che era passato metterli nelle tasche superiori e la devi fuori allora per attivarla il pipolino in alto a destra grazie mille Angelo attivi la radio allora quando tu ruoli se li metti quelle frequenze della radio devi dare questa è la nuova radio di di grau ok se adesso tu fai out e fai visto che tu le dai perché se non le dai chiudi l'rp capisci è una questione di correttezza all'interno del server però è chiaro che in un discorso di domande qualcosa dice qualcosa no poi provi a depistare lì sta nella blog di cosa farà capito lo vedete ragazzi qua c'è una lista di tutte le radio che lui ha utilizzato negli ultimi minuti quindi se qualcuno magari ha una radio per andare a fare una rapina e aveva la radio sua personale tu qua quando gli fai richiedi radio vedi tutte le radio che l'ho utilizzato tra l'altro è la prima volta che uso questa radio se hai visualizzazione non puoi modificare nulla ok altre domande ragazzi altre domande che mi piace rispondere adesso che abbiamo la possibilità più sensibile utilizzare la radio bisogna stare più attenti la radio non deve diventare una cosa che è più attenta a te è un è un coso ti posso chiedere per quanto riguarda l'animazione della radio è stata cambiata oppure te lo dico subito ma quella del bug per sparare come si imposta sta cazzo di radio non puoi farlo non puoi farlo mi fanno mi fanno una domanda qua mi chiedono se per quanto riguarda il fatto che quando rapisci la gente tutti quanti ti dicono che abitano in hotel e fanno i falegnami se avete messo qualche regola a riguardo oppure ma in realtà questa regola qua è una regola che già c'era prima che purtroppo non veniva rispettata allora c'è da dire una cosa raga l'RP non è facile e e vi spiego e vi spiego anche il perché scusa non l'ho capito che vuol dire praticamente quando rapisci tu facevi il cartello io faccio il cartello da otto mesi ma ho fatto due anni il player normale no adesso praticamente qual è la moda che tu rapisci qualcuno e tutti quanti ti dicono che fanno il falegname fanno la legna pescano e cosa fanno abitano in hotel e i ragazzi qua l'abbiamo presa un po' una comica noi non abbiamo fatto 25 rapimenti così 25 contati allora si chiedevano se è stata fatta qualche regola a riguardo allora questo qua è un discorso che purtroppo la regola c'era è sempre stata che c'è la regola di una verità la devi dire però però io devo spezzare una lancia a favore dall'altra parte ok perché viene spesso abusato del fatto del rapisco questo così mi deve dire la cosa ok è vero infatti fondamentalmente ragazzi quando tu rapisci una persona dovresti già sapere qualcosa su lui perché se no ragazzi io entro in città entro dentro mi glielo da comprare una cazzo di pistola prendo lui prendo lui prendo quest'altro prendo quest'altro fra mezza giornata c'ho tutto quanto quello che mi serve nella città nella malavita tu dovresti muoverti conoscendo le persone da smascherato andandoci a parlare creando rp con quelle persone là e poi una volta che tu le hai conosciute se questo ti ha sparato tu non ne hai neanche bisogno di andare a chiedere dove abiti tu lo sai già dove abita ma in realtà è molto semplice perché io te fermo una volta te rapisco una volta perfetto ma hai detto tutte le stronzate fate qualche domanda che volete fare allo staff te faccio seguire per qualche tempo ok se te becco un fragrante la prima la seconda la terza volta un po' qualcosa mi devi dire però posso dire una cosa scusate raga dipendevolo becchi tante cose posso dire una cosa io credo quando rapisci una persona tralasciando che devi avere le giuste motivazioni per farle però lì si gioca più sulla regola del no fear perché se tu sei consapevole che una cosa la sai cioè hai una segna e tu mi menti allora io lì per farti cagare addosso io ti fermo per no fear però da un momento tu cioè a finali conti l'altro sei un buon giocatore non fa metagame quindi non sai se in realtà tu sai la verità o no quindi è il pericolo del no fear raga cioè appare assolutamente quindi io se voglio ti mento lo stesso poi mi becco il ferma mi convari di la tua la tua prova che sapevi queste cose sempre in America apposta il ferma confermato bravo perché io ti mento io ti mento soprattutto se so che tu non sai niente sul denaro cioè poi se tu lo sai e io non lo so ma sì insomma mi sono beccato il ferma però mi senti poi mostra la prova raga ma sta parlando big qua sì sì è respira ragazzi 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 quello che state dicendo giustamente è in pratica che non esiste no io scusami non esiste che io in un interrogatorio ti devo dire almeno una verità sbagliato scusate io la penso così perché a finali conti si schia so io player che ti dico la cazzata o no io mi assumo le responsabilità di quello che fa in effetti vero se tu non sai se tu non sai che è l'altra persona quello quello sai se tu non sai che è la propria persona perché l'hai rapita innanzitutto esatto se no ti capisco ogni volta magari sono pure i sospetti ti capisco c'è una motivazione perché è un sospetto magari t'ho visto con uno che io conosco e che so che fa la malavita ma a finali conti tu in realtà non lo sai se fa parte di quel gruppo se è quella persona ma sa se quella persona con cui frequentava fa parte di determinate cose voglio il vero roleplay è questo invece chi invece è convinto di determinate situazioni vuol dire che per te prevare il metagame fratello mio caro tu per me giochi in metagame perché tu non puoi andare per scontato devi pure saperlo fare un rapimento a parer mio ma questo infatti è in base cioè anche perché poi dopo regà in fase di perma a me mi devi da pure le prove di quello che c'hai è certo perché io non è me faccio per ma tu non c'hai prove il cartello insieme a te bene bene quindi ergo ergo hammer no in realtà anzi anziché esserci più quella regola là no sarà proprio che quando tu rapirai una persona senza un valido motivo o perché volevi delle informazioni quello là è libero di dirti io non c'entro un cazzo poi se tu in ic sai che quella persona là in realtà ti sta dicendo delle cazzate sta a te ruolare bene anche l'interrogatorio con con magari ad esempio facciamo un esempio hammer ti faccio un esempio di un rapimento io so perfettamente che tu sei hammer che abita al 575 ok tutto confermato tutto confermato ma tu non lo sai ok io ti sto rappendo in questo momento qua la mia prima domanda è come ti chiami e tu mi dici vabbè mi fai vedere i documenti eccetera eccetera e mi dici la cosa giusta poi io ti dico ma dov'è che abiti e tu mi spari una cazzata e io ti dico ascolta pezzo di merda adesso ti dico una cosa tu parti magari adesso ti dico una cosa pezzettino di merda io ho questo in mano ok adesso la prossima cazzata che mi dici io ti ammazzo tu hai già fatto il 90% dell'RP che devi fare una voglia gli hai già fatto vedere la prova che c'è in mano e gli dici adesso la prossima cazzata che mi dici io ti sparo in testa sappi che le domande che ti faccio al 99% so già la risposta e te lo sto facendo giusto perché non ti voglio ammazzare ok è perché ho bisogno che me le confermi anche tu queste stronzate qua che ti sto chiedendo esatto menti a sua volta poi Albe scusa questo è quello che hai detto un po' a te all'inizio diciamo che la gente paga per quello che fa se uno vuole fare no fear paga chiaramente chiaramente è lecito Hammer dall'altra parte se vai a vedere hai fatto una cazzata tu Hammer o io Alve io ho una fazione di 30 persone bellissima perfetta e per colpa di una mia cazzata ora quelle là li devo sputtanare no scelgo di morire io voglio morire lasciami morire a me sai le informazioni io sto zitto non ti dico un cazzo la polizia se vuole andarsi a prendere le informazioni su una gang se le va a prendere indaga indaga e può farlo può seguire le persone lo puoi fare nel videogame lo puoi fare cazzo perché l'interrogatorio mi porti un'arma del cazzo l'indagine parte quando tu mi porti un'arma del cazzo addosso e mi dici che l'hai trovata in una patumiera la seconda volta mi dici ancora che l'hai trovata nella patumiera ma tu puoi dirmi il cazzo che vuoi il giudice ti punisce ok dopo partiranno indagini su di te come nella realtà ragazzi l'omertoso nella realtà dura un cazzo dura l'omertoso è convinto di fare l'omertoso dopo 6 giorni ha 17 cimici attaccati al culo 7 cimici nell'appartamento e la moglie Troia e quindi che cazzo che cazzo l'omertoso alla fine si porta dietro solo un'indagine quindi cosa succederà arriverà qualcuno in polizia che dice eh lo trovate nella spazzatura può dirlo può dirlo vuole fare l'omertoso sta ruolando un gangster che il gangster è permesso fare l'omertoso assolutamente perché non sta facendo un fail rp cazzo sta facendo il gangster e può avvalersi della facoltà di non rispondere come succede nella realtà chiaramente questa persona qua non va solo in prigione dopo essere andato in prigione verrà schedato e verrà seguito la questione è Andre quella verrà seguito da questa squadra di detattivi se io o le avevo le cose che quando ho fatto rapire le persone che uscivano da una casa che sapevano la facilità del sedito a quello io gli dicevo io so già dove abiti se tu mi dici una cazzata è già una x perché se no ragazzi è normale che l'rp finisce fra una settimana è normale che la polizia ha un database mi chiedono Alve la situazione per quanto riguarda la cavigliera allora la cavigliera secondo me è una gran cazzata c'è una nuova cosa che non vi ho ancora fatto vedere che è meravigliosa che ha la polizia ok per questo anche tu ho fatto questo ma come lo spoilerarla stiamo parlando della polizia io personalmente odio la cavigliera quando non c'è l'item infatti c'è un item che è meraviglioso bravo dove è Teo non so dove è Teo vabbè ve lo spiego ve lo spiego io c'è un item che si chiama GPS che si può mettere nelle macchine buonasera Cristian se entreranno nuove ragazze è una domanda un po' difficile fratello lo speriamo tutti ma la certezza non ce l'abbiamo Simone ma dalla polizia potrebbe uscire fuori posso fare una domanda su questo si ma la corruzione di un poliziotto deve essere comunque approvata da uno staff giusto allora solitamente la corruzione la facciamo fare la facciamo fare di solito a player che sono veramente veramente capaci di fare RP perché la corruzione del poliziotto può veramente distruggere la fazione della polizia o dall'altra parte e dall'altra parte favorire veramente la criminalità quindi chi fa il poliziotto corrotto ci dobbiamo proprio accorgere che sia un poliziotto una persona bravo una persona che sia ad esempio sei un bravo player di RP e un poliziotto corrotto te lo farei fare tranquillamente Eddor è un bravissimo player di RP io lo farei fare tranquillamente il traiardino di turno che mi fa la recluta no no assolutamente no perché vorrebbe dire armi in giro per la città gratis ecco il nostro cric il corrotto deve essere uno che conosciamo già diventa un po' distruttivo e ne avete voi per il servo questa è la città di polizia ma che vuole creare perché il corrotto ragazzi volente o nolente fa equilibrio e basta il corrotto è uno snatch è uno snatch dall'altra parte anche peggio forse il corrotto aiuta aiuta a indilibrare le cose raga semplicemente per me spostate Ivan è il figlio di CJ ragazzi dipende che corrotto fai infatti deve essere ponderato perché come diceva Alve se fa il corrotto pesante non sa cioè se non ti dai un limite non ha senso perché spasci tutto spasci tutto la propria famiglia le dinamiche del gioco bro distrugge il server pioverà sempre nella V4 come qua domanda speriamo il meteo guarda io addirittura la pioggia la volevo quasi levare però ci sono delle situazioni di pioggia che sono belle quindi vedere no non pioverà come nella V4 abbia limitato molto molto l'appoggio è uguale vaffanculo di precedente di precedente incredibile comunque no Big te l'ho detto il bene o male rimarrà rimarrà quasi così la situazione nel senso che il corrotto la farà comunque una persona l'altro dovrà sicuramente essere approvato dello staff se ci saranno più corrotti tanto quanto tanto quanto dall'altra parte lo snitch uno che deve snitchare e che vuole fuma una sigaretta e vi tolgo solo la camma ma sono qua questo è importante costituirsi alla giustizia e diventare un collaboratore di giustizia il collaboratore di giustizia avrà delle regole ferre la prima è non poter più rullare la criminalità perché un collaboratore di giustizia si è costituito per diventare una persona legale e non per facciare ok perché lo spacciatore che se la canta e basta e va in giro libero e spensierato quello esiste solo nel mio quartiere però dalle altre parti solitamente non c'è ok grandi belli così ci saremo tutti secondo me è da capire anche con gli scripter se abbiamo tolto il fatto di quando ci sparano e siamo in auto se cadiamo dalla macchina eh questa qua è un po' una stronzata che succedeva che mi dava un fastidio hanno delle cose nuove la tua macchina esatto vabbè quello è una cosa che possiamo provare se vuoi possiamo provarla mentre possiamo provare ad andare giù e provarla vuoi provare siete schianti e schianti allora voli dalla macchina comunque spiegate spiegate a tech che la maggior la maggior parte delle test che erano presenti in questa v3 non erano streamer e quindi hanno dato rp a tutti no solo una erano streamer esatto appunto ero io e sai che mi sa che cadi perché c'è il knockout fra si cadi cadi mi sa che cadi dalla macchina perché c'è il knockout a proposito non vi ho fatto vedere questa cosa qua almeno c'è la mia incredibile questa qua è la situazione di knockout ragazzi in questo momento qua finché lui non viene confermato se ti muovi testa di cazzo finché finché lui non muore definitivamente quindi finché non lo confermi lui può ancora ricordare ok quindi potrà capitare in un fight che una persona viene ferita viene dimenticata lì dove cazzo era e saranno cazzi i tuoi e che può anche scappare tra l'altro che può anche scappare le medicità che sperano puoi trascinarti e puoi chiamare i medici nel punto dove sei in realtà c'è un tempo perché poi dopo mori ovvio ovvio se non erro c'hai una siringa qualcosa lo puoi rianimare quando è giù così allora lo puoi rianimare il medico lo puoi rianimare anche la persona però 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 c'è dell'RP dietro anche a questo se una persona vuole rianimare un'altra persona va in ospedale prende il brevetto del primo soccorso prende le sacche di sangue prende le sacche di sangue perché adesso ogni persona dentro il gioco ha un tipo di sangue e viene rianimato in base alla sacca di sangue che c'ha e questa cosa è una cosa che vi farò vedere con lo script perché ve lo faccio vedere quando ci sarà l'ospedale e anche da molto rpme di regalo scartini questa cosa è una cosa che vi farò vedere quando vi mostro l'ospedale che sarà domani domani vi mostro l'ospedale e parleremo appunto del knock out del dimenticare di tutte queste stronzate qua ok e fai sulla macchina si mi hanno fatto una prova e va a terra c'è va a terra con la terra va a terra a me abbiamo ragazzi dimentico ma cazzo fai è impossibile che non vai a terra riesce a pigliarmi no ti entriamo antiproiettili antiproiettili fra stavanti antiproiettili no è che che non sei buona mira e a me questa cosa qua che cade dalla macchina non piace tanto poi io lo diciamo io lo diciamo allo scripter eh ma per forza alve perché come cazzo fai è impossibile poi farmi account è però è anche vero che se io adesso spara lui ok per sbaglio lo ammazzo fra e sparare ma questa cosa da quel che ho capito si poteva fare quindi la doveva solo mettere però ma alessia ok va bene raga altre domande perché non creare una fazione che è borderline con le azioni illegali tipo la fazione che si occupi di commercio import concessionario banca e di servizi illegali come informazione e bene di servizi di spionaggio per la città sia per la criminalità sia per la polizia minchia giova eh questa è una bella cosa trovare player che vogliono farla eh se chi la vuole fare dentro grau si può creare quel cazzo che volete oddio in realtà in realtà si sta creando qualcosa di sto genere ma non spoiler è meglio infatti non spoilerate e raga questa è una cosa che dovrete vedere nel picco comunque dove va si hanno già risposto loro ciao Marco bello mio buonasera saranno molte cose nuove diciamo ma dichiaro è stato di arresto qualunque cosa che lei dirà farà io l'unica cosa nuova che vi dico è buonanotte ciao raga adesso chiudiamo pure noi quindi mi fermo un pochettino con le mie vite qua e poi ci sentiamo domani sera ragazzi chi vuole partecipare domani sera se ci sentiamo qua ok ciao raga voglio vedere ciao 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 io mi finisco due litri del limoncello e se vediamo il 29 ciao ciao gravo ti hai qualcosa di giudicare raccolato ma noi facciamo in giro con la città o dobbiamo assagare e cazzo ma che cazzo ma di mia ma rai 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 venire sempre lato rimaniamo intorno al governo giusto ma la piante si che i partiti capo e ragazze di spettacolo perchè per terra tra poco da me chiesto io ho già mai testo il bambino e non c'è i soldi per andare in ferie son poveri vado in ferie un uomo di tito spiro io brido spiro io è segnata la prossima volta questa è un po' un casino adesso vediamo magari un paio di giorni questa settimana qualche sera guarda che io mi sa che vengo su fra un po' quando c'è juve roma ragazzi mi chiedo solo un favore non spoilerate altro sì perchè io mi vengo a vedere a juve a torino in modo che poi posso prendere per culo i romani ahahahah mi chiedi perchè potere che sa parlare vediamo se riusciamo a trovare i biglietti i trovo i trovo allora perdonati perdonatemi un attimo io farei vedere se si può o no se possono chiedere almeno il negozio di vestiti qua di fianco niente niente ciao ragazzi 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 io voglio dire una cosa visto che siete live ci stiamo organizzando per creare la cena penso che lo farà a qualcuno c'è già scrivete a tutti i moderatori delle live chi vuole venire è ben accetto tanto a rum tanto a rum poi non ho capito si facciano a roma micchia a roma adonare gama io non c'ho più il mirino mamma mia come se 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 un anno non ho il mirino non ho il mirino non ho il mirino non so perché in questa versione non ho il mirino non ho il mirino non ce l'ho 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 ma c'è l'ultimo ma se non so la mia mia non è stata di cazzo brutto strozzo l'ultiamo non mi era per il video ma stiamo nel mondo la straia ebbene e non ho la pistola e non ho la pistola non ho la pistola e finita della pistola ah no così così devi fare guarda sto perquisendo no sei andato questo è già cominciato a bussare ancora non è iniziato mi viene la pistola fermatelo fermatelo dai su dov'è sta merda dammi la pistola ah la pistola ragazzi consuma eh dammi la pistola dammi la pistola dammi la pistola ma spero che ti aiuto io guarda che fa le capriole come i trajardini ecco questa è una cosa che volevano fare volevano sapere i trajardini si possono fare le capriole di fila sti posso no togliavo le capriole perché poterà che verde oh scusa scusa ammerò mannaggia a cazzo ma spero che ti aiuto vieni 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 fatti fermo e anche a me mi avevamo fatto quella domanda per quello volevo la pistola ma sinceri tu le capriole le farei ragazzi vi chiedo un favore non spelerate altro a sparatoti andagli le pistole c'hai già dato sti veni a mangiare da me oh per la cena per la cena a roma per la cena a roma c'è un ragazzo del ristorante qua in la vita a me ok se vogliamo andare da lui e io sono pover quindi non posso venire a roma e poi se venga roma si gemi picchia quindi non posso venire potremmo andare la bello buona sera come stai sto bene sto bene marconi tu che dici che mi raccomandi comunque è una figata ma tutto bene tutto bene siamo venuti a provare la v4 ma possiamo solo farvi vedere la parte della parte centrale di polizia possiamo farvi vedere nulla come state raga alve ha dato via come siamo a laica ha dato via mio padre dai 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 belli e se sarà arrivare a 100 che siamo in pochi che servere è la v4 sta è la v4 e questo è un piccolo spoiler ma scusa la v4 adesso noi non possiamo entrare giusto è bellissimo la prima parte che abbiamo visto che poi abbiamo potuto vedere su questo pezzettino non ce l'intereremo minchia 저는 wa se lo vuoi gli uoncio sultra.zero sono facendo l'incontro tutti mafiosi vendere non c'è nessuno in città tutti lo su le alberate la valore l'alberate cerchiamo a seconda richiesta via assistenza di! per tutti a casa arrivederci tarone a rinvecili altri ti voglio bene Tyrone a fa cura si ciao guardalo guardalo il cambio dei pompieri riusciamo a prenderla tutto a posto sto in ferie è stata una settimana Gaeta rientro stasera grande beh Gaeta è bello come posto non possiamo spoilerare niente quindi ritorneremo lì però guardate che bella la città guardate come si vede bene sono entrato così al volo con il PG faccetta così pelatino sembra un troller però non possiamo allontanarci facciamo stare solo sotto a me lo scaccia il tasto per il click sinistro vedi se spruzza se spruzza no eccolo andiamo a pulciare andiamo a pulciare andiamo a pulciare qualcuno con l'acqua vedi che fortissima l'ammazzo 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 è uno col getto muore l'ammazzo l'ammazzo è uno col getto e non possiamo allontanarsi da qua sotto e vai all'angolo guarda quante persone ci sono in fondo andate in una madre non lo so e si che sono colleghi colleghi il bombiere paura non è l'amazzo la paura allora dobbiamo uscire steve non vi divertite andate in v4 in v3 vi divertite tanto domani penso io giorni si faranno altre dirette per far vedere la tua roba va buono va buono va buono quindi volete andare nella v3 vuoi adesso no io io mi sa che chiudo vedete qua si si saluto tutto e me ne vado ciao raga io quasi c'è qualcuno in v3 su tu ci sei steve tra un pochino entro io ma mi sa che stanno facendo una bella cosa quindi ti conviene entrare big amers è ancora live si anche ok se vuoi andare a vedere mi sa che stanno facendo una bella cosa di cosa ma sono incontro so ma dubbi me l'hanno di mando rischio nella v3 io ho chiuso non rischiare un arresto stasera ecco quindi allora mi raccomando fate sapere a tutti per la cena il ristorante c'è volendo anche noi abbiamo qualcosa mi muto qua parlo un attimo di allora ragazzacce allora mi metto un attimo grande grande madonna guardate che ciuffo eccomi ragazzi eccomi eccolo big aspetta che abbiamo un camera pro che è live ci spostiamo un attimo vabbè andiamo sopra e spostami due che non ok ci hanno lasciati soli e cosa volevo dire ragazzi bello molto molto bella promettente no buonanotte marcone ciao ciao luca come stai e allora ragazzi non so non andrei avanti io andare nella v3 volete andare nella v3 volete andare a fare un giro in città e io quando eri piccolo a me dai guarda che bel figurino vabbè adesso c'ho un po il ciuffo ribelle però dai un po il capello capello ribelle ma è un bel ragazzo marco grazie per il like grazie mille gianluca angelo marcone belli grazie mille ragazzi grazie a tutti allora no quello che voglio dire io raga molto bella vi è piaciuta darione è bella buonasera vi è piaciuta la lo spolerino della v4 abbiamo fatto questo piccolo pezzettino dove si è visto un attimo la si è visto un attimino la la v4 l'abbiamo visto la centrale di polizia e alve ha parlato un attimino dei vari cambiamenti che ci possono essere per quanto riguarda il regolamento ecco cosa faremo nella v4 mangiato bene ieri sera si ieri sera visto che roba simon sono spaccato infatti non sono riuscito a venire neanche in live ragazzi ero costipatissimo stavo stavo con la pancia che mi scoppiava angelone grazie mille per il like grazie luca giancarlo grazie mille ragazzi e la v4 dobbiamo decidere assieme cosa faremo questo sapete che è un'idea che mi sta frullando in testa da qualche giorno di cosa vorrò fare vorremmo fare nella v4 ma non ancora bene l'idea chiara di quello che voglio fare voi che che pensate che pensate cosa vi buttereste a fare la v4 continuiamo nella criminalità andremo nella polizia volete fare un po di legale poi vediamo come butta andremo direttamente a fare la gang che cosa pensate che cosa ci potrebbe essere di di bello la polizia quindi ma prova polizia non lo so ragazzi la polizia è comunque perché comunque un rp molto particolare io non l'ho mai fatto ad esempio non saprei neanche bene come faccio siamo sceriffi dobbiamo chiedere fa il sondaggio sì ma facciamo una live apposta ragazzi faremo una live apposta dove farò venire qua alcuni ragazzi della mia fazione qualcuno qualche mio moderatore qualcuno ci metteremo qua su discord e faremo una una live sondaggio dove chiederò a voi appunto e parleremo argomentiamo quelle idee che ci sono venute in mente quello che ci permettono di fare chiaramente perché tipo lo sceriffato è un'idea che mi era venuta me lo sceriffato però hanno detto che probabilmente nella v4 ci sarà solo un corpo di polizia la polizia non ci potrà essere anche lo sceriffato se non c'è lo sceriffato non possiamo farlo capite e la cosa un po mi dispiace perché l'idea era quella mia era quella di farlo sceriffato però certo che le cose possono cambiare possono essere introdotte possono essere tolte devo ancora parlare con lo staff di tutto questo questo che avevo in mente io però non lo so cioè noi siamo abbastanza portati diciamo nell'rp criminale no come avete visto arriviamo quasi sempre arrivo in due storie siamo arrivati tutte e due all'apice di quello che potevamo avere nella prima parte si poteva prendere il cartello l'abbiamo praticamente preso nella seconda si poteva arrivare massimo a testa del cartello ci siamo arrivati ma non si vuoi fare il criminale dovresti iniziare dal legale è ma così però marcole non è neanche c'è sì però non è neanche semplice sai ciao le buonasera buonasera michele ciao bello come stai michael bigotta è la vita che non ti vediamo grazie luca grazie per il like per la mia e davide grazie per la condivisione grazie mille raga non è non è facile anche perché il tipo di rp è molto particolare no vi potete voi non vedreste mai un'azione non non mi vedreste mai in azione sparare non mi vedreste mai comunque all'interno delle azioni ma sempre fuori da dietro dove si tiriamo le file tutto quello che volete però poi il bello ve lo dovete sempre perdere secondo me voi non piacerebbe tanto davidone grazie per il like grazie ale benvenuti ragazzi buonasera eh non è facile eh non è facile sta cosa qua oh bernardo bello mio benvenuto grazie per il like non è facile questa cosa qua ma come si fa ma è come quest'anno quest'anno è partito che c'era anche lo sceriffato poi li hanno uniti ed è rimasta solo la polizia quasi tra 7 8 mesi che c'è solo una polizia eh luca eh il come non lo so raga davide alessandro grazie per il like raga michael grazie per il like no il tuo rp è molto ho parlato gli incontri e le gestione con i gruppi lo faresti si però quando poi ci cioè non vedresti mai l'azione capisci marco non vedresti mai l'azione l'azione secondo me ci vuole ogni tanto dove io devo partecipare a un rapimento dove io devo partecipare per prendere qualcuno dove io devo partecipare per andare a scappare da qualcuno che ci vuole prendere cioè se lo faccio in quella maniera lì non cercheranno mai di rapirci perché come avete sentito alve che ha detto eh i rapimenti poi saranno gestiti eh quasi sicuramente per quanto riguarda le persone che sanno già eh informazioni quindi se tu queste informazioni ce le hai bene se non ce le hai è inutile che rapisci qualcuno perché lo rapisci ma poi cazzi tuoi cioè se non sai niente quello può non dirti nulla e tu non puoi fargli niente quindi non so non so ci sto pensando ragazzi ci sto pensando da un po' eh a dirvi la verità non è facile vi arrivati a 72 like in un attimo forza belli usciamo ancora Melina grazie mille per il like benvenuta cara come stai tutto alla grande come sempre ritornato da lavorare all'agriturismo ma non in regola e vabbè Mike iniziamo a lavorare cioè adesso vabbè non voglio che passi il discorso lavoro nero ragazzi purtroppo in Italia è un problema un problema grande che c'è da molto tempo e questa non è una cosa bella per niente ma purtroppo a volte le persone come magari nel tuo caso pur di lavorare accettano questo rimane la gang rimane la gang per quanto riguarda il percorso di rp ok rimane la gang ma se no ci sono tante cose nuove che si possono inserire per dire che ne so una fazione che si può occupare solo di rapimenti per dire la qualche idea ce l'ho però non ve la voglio dire qua voglio voglio poi fare una live apposta raga dove sarà Angelica benvenuta sul canale grazie per il follow vorrei proprio fare una live apposta dove chi ha avuto queste idee ve le impronta e poi ne discutiamo insieme qua qua insieme a voi secondo me è bella secondo me è bella tipo una fazione che fa solo rapimenti secondo me raga ci potrebbe anche stare perché sarebbe carina come cosa da vedere dove dai servizi a tutta la città che quando non ha bisogno di prendere qualcuno si rivolgono a te visto che ci sarà la cosa che puoi dimenticare ma non su un tratto non ho capito bene sarebbe bello solo le estorsioni nella vita reale nella vera attività si però solo le estorsioni raga sarebbe poi palloso una volta che hai chiesto il pizzo quei 5 6 negozi che ci sono che minchia fai una sera a me sono tornato da 3 giorni dopo 4 mesi e non vedo l'ora di ripartire dove sei tornato bernard intedevi qua cacciatori d'italia angelo si carino carino che puoi interfacciarti sia con la polizia che con i criminali per dire una fazione sta cercando uno non riesce a prenderselo si può rivolgere a noi e noi lo andiamo a prendere o anche la polizia magari c'ha un ergastolato come quello che sono io adesso e non riesce a prenderselo si può mettere una taglia dove questo per compenso questa fazione interviene carina tipo mercenari no avevamo anche pensato a questo noi raga anche si si è una cosa mista capite deve proprio fare una fazione di mercenari dove noi interveniamo per andare a rapire la gente e portarla a chi ne ha bisogno oppure ammazzargliela oppure che ne so chiedere il pizzo all'attività piuttosto che magari facendo il lavoro di qualcun altro che non vuole farsi vedere così sta più nascosto questo secondo me è una bella idea eh ma la prostituzione però se non ci sono donne se non ci sono donne Giancarlo viene veramente difficile meglio bere un piccino di vino con la cola secca bravo Matteo ottima scelta ce l'avessi qua me lo farei una birretta fresca dovevo mettere il frigo ma non ho ancora messo se state sono riuscito a combinare niente si sono rientrato in Italia al resort poi riparto fino a ottobre ah sei qua in Italia bene bene Bernard poi fino a ottobre partiamo insieme se ti dicono di prendere club gli dici che non puoi perché è una fazione eccita non lo puoi prendere ma chi non sa fare spazio nel gruppo è quello capisci se tu fai una fazione come quella lì chi non sa sparare non è che serve tantissimo se ne servono due o tre per fare i vari interrogatori durante i rapimenti magari queste cose qua però c'è più gente che spara gente brava a fare a seguire con le macchine a fare a fare i rapimenti sparare eventualmente Emanuele e Angelo grazie per i like ragazzi benvenuti di vero le donne sono poche no sono proprio niente fra saranno due o tre in tutto server una è una giudice una è una procuratrice a parte teresina non abbiamo nessuna donna che potrebbe fare una cosa del genere e non è non lo so ragazzi questa cosa qua mi sta portando un pochino a pensare sono un paio di giorni che ci ragiono e vi devo dire la verità che non ho ancora trovato il il nesso giusto per fare qualcosa di che mi piace ma la situazione del carico della consegna entro il 25 vale ancora sì 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 assolutamente assolutamente sì nella V3 sì 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 ma la V3 ragazzi è ancora in piedi ancora attiva io stasera dovevo entrare Alve ha chiesto a noi streamer di portare questo contenuto se avevamo voglia di farlo e l'ho accettato volentieri per farvi vedere anche a voi un pochino un pezzettino di V4 che secondo me è molto carino bella Cristian grazie per il like Maria grazie per il follow benvenuta sul canale cara grazie di esserti unità i maledetti la V3 andrà ancora avanti c'è grazie per il like Cristian grazie mille ragazzi come state il V4 sarà molto diversa la situazione come avete sentito quello che ha detto Alve prima quello che faremo sarà molto più difficile diciamo l'RP sarà un pochino per persone che vogliono fare meglio l'RP sarà gestito più un po' più difficoltosa la cosa quindi se non lo fai proprio più che perfetto rischi il perma e tutte cose del genere quindi tosto tosto ci dovremo concentrare molto se vogliamo fare una storia lunga che succede amico no niente ce l'ave siamo andati nella V4 a vedere un pezzettino di centrale di polizia un pezzettino di mappa abbiamo parlato un po' di alcune cose nuove del regolamento che saranno e niente poi Alve ha chiuso la live e stiamo uscito e faccio due parole con voi ancora una 20 minuti una mezz'oretta così e poi stacco anch'io perché adesso entrarei in V3 inizio V4 il 4 di settembre il 4 di settembre ci sarà l'inizio della V4 quindi abbiamo ancora qualche giorno per ruolare la V3 qualche giorno bisogna ancora farlo siamo al 22 quindi calcolatevi ancora 12 giorni più o meno no di più ma si molto di più si eh si 12 giorni più o meno 14 giorni quindi sarà sarà tosta sarà tosta sarà tosta quindi c'è tempo per fare un po' di metà si adesso faremo spoilereremo qualcosina di tanto in tanto quando Alve ce lo chiederà quello che vorrà far vedere lui andremo avanti a farvelo vedere e adesso ho detto che domani voleva far vedere l'ospedale non so domani sera sei ancora in V4 penso di no faremo magari vedere l'ospedale faremo un pezzettino però poi andremo in V3 raga perché da domani sera bisogna riniziare a ruolare un pochino la V3 per portarci avanti con le cose poi scopierà la bomba e ci saranno varie varie cose quindi sarà molto bello tutto quello che che verrà adesso sinceramente non non avevo voglia di passare in V3 adesso entrare magari in V3 a quest'ora voi che dite volete andare andate a dare un'occhiata che succede anche perché non so se c'è qualcuno dei miei non so nulla ok andiamo a vedere se i nostri o di qua belli se sei uno fai 843 hammer siamo in live belli noi stiamo facendo un evento un evento organizzato che state facendo se vuoi spettarlo in un'occhiata stiamo facendo un assalto organizzato giusto così per sparare un po' e attacchiamo il 648 siamo tutti un misti se vuoi venire a vedere è un evento figo se ti va di spettarlo siamo noi i rosa siamo con i rosa siamo con un'altra gente dobbiamo attaccare il 648 c'è un botto di gente ma proviamo siamo siamo con hammer sull'applicativo ma io posso entrare cioè posso partecipare se vuoi spettarlo sparare non lo so perché in pratica c'è nulla stiamo proprio pushando ora se vuoi chiedere su me ti fanno sparare adesso che devo aprire ancora sono a casa ora che arrivo ma bringati un giro in v3 ci sta vai che ti frega dai andiamo andiamo stiamo andando vai mi muto un attimo hammer se ci trovi al 648 vieni al 648 dobbiamo attaccare il 648 noi siamo già arrivati e quindi mi attacchiamo se vuoi aspettarlo c'è un limite di persone o mi posso oggi abbiamo già fatto le scuola però non penso sia un problema se chiedi a qualcuno chiedi a ombra che ha organizzato tutto lui ombra mi senti ombra eh lo so ma c'è c'è hammer che voleva venire anche lui riusciamo tanto vado giù subito potete parlare nel piano che sto giocando a quad il coglionazzo di angelo vieni anche tu angelo no pistolino piccolo cosa cosa gli devo dire scusa ok ok intanto hanno detto che facciamo tanti assalti quindi prossimo puoi venire hammer se vuoi aspettarti questo intanto va bene dai ok vai se quattro bello devi andare da actor allora vi rimetto guarda che sennò faccio casino ok allora l'armi ne abbiamo c'è mia solo la pistola vabbè ma va bene andiamo a 648 385 giorni che ci segue il nostro mic grazie di cuore bello 648 dove cazzo stasso che non mischiate sti civici di merda 647 qua 648 dove minchia ma prima vita non lo vedo raga vedete voi 648 qua adesso di qua il 648 non lo vedo anormia automatica ecco qua 648 il blu contro i neri mi sa ma il nero e il nevrone la siepe cosa fa c'è anche axel guardalo qua enorme sopravvi stai calmo stai sparare un po' anche noi dai mi sa che i neri stanno avendo sopravvento sui blu no questo qua che è entrato nero qua dentro lo sta facendo il panico no 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 dove vanno sono finiti a meno che non sono dentro casa per me è sempre un piacere seguirti mi raccomando like condividere dobbiamo far crescere il canale grande Mike bello di casa sei mancato sei mancato ok prendi chi è questo? è finita? non c'è giù prendetelo vabbè si vedeva ah com'è? ma quando sei brutto? oh cazzo guarda che baffetta a uno ho fatto i tre quando non gli sei tu vedi che l'azione mi ascolta a meroni a meroni se vi siete fatte ammazzare da lumezi sto messi male a loro a uno io quanto sei brutto come brutto ma che cazzo sei un marano sei brutto signorina sono brutto no sei bellissimo bruttissimo no non ho capito un cazzo brutto è un marano è un marano guardate solo che guardate solo che baffetto ma tu fai imita sbagliata oh non posso dire che sembri sparate con la tua non posso dire che sembri perché se no è bannabile no 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 mi distogno no 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 meglio sparare anch'io eh vieni ma che pistola ma che pistola ragazzi uno se ne va uno dei nostri quindi se ne va se ne va te ne va voider devo passare l'arma eh chi ti ha ombra vieni te la passo io devi fare a certe posto di via no 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 guarda che c'è una signorina di mezzo porco oh scusa ma tanto è no tranquillo è conosciuto è conosciuto che senso non è bella che senso puoi dire queste cose puoi dire conosciuta ma sei proprio metti il cappello non è mai era per lui mai fare cose 8 di sito da signorino il cappello 8 il cappello andiamo via ho salvato a o no cazzo maio salvato no cazzo ho salvato a me scappiamo staremo sempre con edimo 4 ragazzo da venditi andiamo elicotro si deve un'arma aspetta oh vieni qua la fazione che attacca entra in radio tanto adesso me ne serve uno in più 00658.0 se lo vincete vi ne danno la metà della roba si lasso tutto l'unica cosa ricordati che noi praticamente le risorse che abbiamo qua dovremmo darle a tutte le fazioni però non ce ne trega un cazzo se ne togliamo un po' vabbè il 20% si lasso preparatevi un no 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 facciamo a occhio facciamo 20% vabbè andiamo a calcolarlo dai preparatevi un cazzo ma si lasso ma si lasso ma si lasso ma si lasso ti sentiamo ma si lasso ma ce l'avete con me? io si si ah grazie ma dove l'avete fatto? io ho fatto tango 2 ah signori adesso riandiamo dagli altri eh il cannon è qui ve l'ho portato io tranquillo si lasso tanto guarda vai prima a lasciarci la casa perché è finito con gli altri noi torniamo qua eh si smutandiamo in due secondi aspetta tranquillo quando ci ammezi tu perdiamo e quindi faremo un proprio signore con la maschera bianca bellissima ah vado che capito come ci si rapporta le tante anche perché loro l'hanno perso chi è che doveva chiudere gli occhi? sei tu che devi chiudere gli occhi però facciamo subito il convoglio Mischa si si vuoi der eh sì si prepara e quando sono pronti loro partono col convoglio io ho detto che erano un po' di benigni, io sono sempre qua per cinque ore passiamo solo a carabina ehm 101 venite tutti qua, vieni qua, vieni qua io e provo, aspetta se sono qui qua aspetta che mi sta passando la carabina si è venito qua, ragazzi, siamo passati con voglio eh, mi servono anche i colpi, raga oh, raga, un attimo, raga, un attimo abbiamo tutto, raga abbiamo tutto, allora, ascoltatemi ora loro vi danno il cibo che vi devono dare, le risorse voi vi organizzate un convoglio e partite lo possono attaccare ok a dove portiamo sto convoglio? ehm, un posto safe per voi scegliete una destinazione se non lo sanno è meglio vogliamo fa 844? no, no, adesso ma io lo diciamo no, ci pensiamo c'è, sceglietevi una destinazione di media lunghezza come distanza da qua che è safe per voi ragazzi, ogni tanto butto per terra le munizioni dai ragazzi un bel 703ner no, è troppo organizzatevi voi ragazzi quando siete arrivati nella vostra destinazione finale e loro non hanno più possibilità se li attaccano ve lo ho mai dato si, 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 si questi qua, questi qua c'è della loro roba ragazzi ragazzi, se a voi possiamo tipo andiamo al quattrocena ma molto viso, molto viso mi sentiamo in braccio se vi è spostato vi andiamo in braccio no, li lasciamo qua in mezzo ai amici facciamo un albero, ragazzi ci prendiamo tutti in braccio ragazzi, andiamo al 911 perfetto vigneto, vigneto, vigneto ti ho dato il giubbotto grazie caro ragazzi, molto semplicemente ma chi manca il giubbotto ragazzi? abbiamo i due guardian poi abbiamo l'elicottero ovviamente non lo usiamo se non lo rispondiamo tutti e abbiamo un pounder quindi abbiamo il camion di mezzo uno sul camion tutti gli altri sui guardian appena chiamiamo una call io voglio che quelli più bravi siano su un guardian e schizzano vicino a quelli che devono ammazzare quindi quelli più bravi tutti su un guardian che vanno e fanno tutti quanti da dietro da dove cazzo capita mi piace questo piano io posso chiedere il giubbotto sono al 141 se posso possiamo anche mettere uno dentro al camion dentro al si viene con me tu vieni con me in seat car così non ti vedono e ti l'inculi si mette dietro a cosa quando serve apri la portella scusi essi scusi se mi permette di fare una sensazione con i suoi uomini vedo 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 faccia 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 io è lo spirito del leader non può capirmi a questo punto io faccio il soldato semplice è un'altra dietro io se volete faccio l'effetto sorpresa esco dal camion e poi mi sparo l'effetto sorpresa l'hanno fatto una volta un mio amico e ci è rimasto veramente male quando è andato in quel bagno nooo nooo dalla tua futura amica ragazzi vi servono ancora munizioni sono qua per terra io ho preso 10 pacchi e penso che ce ne è abbastanza madonna porca miseria tanto sei il primo a morire ma io perchè sparo a cazzo quindi mi servono parecchie prenditi il caricatore esteso pure ah signori si accettano scommesse 100 milioni di dollari camera il primo che va giù allora si accettano scommesse mezzi fotonetta lei signore cappello bianco signori si accettano oh lumezzi noi dobbiamo stare tutti con una macchina no 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 lumezzi lo prendiamo noi lo prendiamo noi no lumezzi ora che facciamo la formazione proteggi hammer vai davanti a lui vai vai apposta oh mezzi mettiti davanti hammer ok sinistra e destra vai dobbiamo fare tutti gli angoli entratando hammer a posto posto intanto non mi stai chiamando illustre stasera già illustre mi scusi illustre che tutti li chiamano hammer qua mi sto confondendo signori silenzio qua potrebbe essere un pericolo ah ma lei è l'illustre eh adesso possiamo chiamare l'illustre vostro dove signora signori vi chiedo di allontanarvi quando c'è l'illustre allontanati attenzione l'illustre per favore allontanati allontanati non me lo puoi dire siamo pronti dobbiamo sparare illustre vogliamo almeno un tango 15 da lei totale 15 mani basse eh sì la sua tale è 1250 ma saliamo su quale ah lei fa tango 15 solo se hanno le mani in basso senza armi anche io la ce la vado dimmi non c'è la maschera vieni qua attento che ti vedono in volto dopo ti fanno guardami qua tisca tusca dopo lino no ok vado a saraga vado a stare vado blu metri dove sei ho preso il primo guardia il primo la squadra della morte qua la squadra della morte poi c'è la squadra della morte voglio andare avanti io eh fai muscolo f5 no regalo la squadra della morte no raga no la squadra della morte no vabbè ma di approcciare vado bene ok ok oh no io non voglio star fuori io ma questa è la squadra della morte ragazzi si scatta dobbiamo proteggere il principe per guadagnare 100 milioni oh metti tu come sta bellezza tutto bene eh siamo tutti quasi i gardi a noi raga tutti dentro tutti dentro cazzo fai da fuori si si cazzo tutti dentro vado 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 un mezzo segua me col mule quindi col furgoncino riguardano invece che si occupa della difesa stia un pochettino a distanza fai un'altra strada 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 che mi sono messo in mezzo il casco nel culo così sparano il casco me lo metto è una poca c'è la lark molto voi avete capito tutto quello che bisogna fare no però io metto che non avete capito un cazzo no io so solo che quando sparano dobbiamo andare da dietro esatto dobbiamo andare da dietro e fargli QTM appena appena mettiamo un blu solo scello raga una cosa quello che guida è in grado di guidare stai parlando con me zi cara ma illustre perchè non guido io illustre guarda la situazione e lui da lui non mi roma lui li guglioni io non mi fido di no po' regà cugino gioco spesi sulle barrile io sono il top driver il primo che vedi vestito di blu lo pitti contro muro e scendiamolo troveglia ma chi questi quelli è stata che noi non c'è un anno che non c'è un po' siamo voglio uscola marmità bella calda non vuoi tornare con i ammelli di ammello giardino 184 1 1.4 mi dare il video giardato il mostro della vita al valore vibratore ma deve avere me la frase dietro for 1.9 milan di percorre una posta che troppo conciugno ok caro, ma quello bianco, quello bianco chi è che mi sta a chiamare? ma chi è che mi chiama? come si apre il telefono? aspetta che va avanti e mi riproduco il telefono è bianco a merda noi siamo tra ieri ma ne va 4, si possono fare cappiole? ma è normale ma come qua o tante o poche? quasi fanno pochissime uno di più e invece la corsa, la corsa è continua, la corsa è continuati stanchi a miseria, la corsa se si vanno dopo ti spio, l'ho avuto un terreno il lavoro di tutto abbiamo fatto questa giucciata parla ora questo giucciata parla è tranquillo, tre dei miei segnali maragama e si lascia il bimbo cane quello della fede eh no, non è vicino, poverino andavamo davanti alle porte, non entravamo, 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 comunque eravamo qua a merda se c'è alfa in live ti puoi dire che è proprio un bella alfa torna da domani cosa? bel carabinire io nel dubbio vado a scaricare un attimo la vesciga a rio un che zenzio? vado a fare la plin plin, da capo oh io mi sposto qui sta di fianco a me, ce la faccio in piedi cosa accada se sentono gli angioletti? oh merda cosa che non devono sentire? ma perchè prima vedevo un angioletto che volava raga? scendete un attimo tutte le spalle c'è vedevo tipo gli schedetti di mieve un attimo brainstorming una ragazza sta spuotando la vesciga quindi non c'è ma mi dai un silenziatore? un caricatore stereo? qualcosa? come cazzo si chiamano il silenziatore? dai lo smonto la metto da te il silenziatore ci vuole ma è pazzo vai io sono lo smiravo aspetta vado a prendere la donna aspetta aspetta tanto stanto se no vabbè mi è venuto AX senza senso vabbè allora raga famo una cosa molto semplice non ci stava tutto quanto abbiamo due camion facciamo una cosa signor AXL allo dana tizzo mi stiamo un po' estremo allo dana tizzo allo dana tizzo eh no mi sclicca c'è un altro ancora allora devo dire una cosa importante si scusi stiamo a fare la strategia stiamo facendo il brainstorming aspetta 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 brainstorming circolate circolate vogliamo smicciare tutto vogliono io come vedi io la cazzo si 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 raga allora un guardian e un mule guardate la mappa passa da destra ok quindi fa tutta la strada che va verso l'osservatorio la west eclipse boulevard quindi si esatto west eclipse boulevard e sale sopra facendo tutto il giro dall'893 andando in su guardate l'893 ok ma non ci conviene andare tutti assieme che se magari tutti assaltano un convoglio è quello il bello perché loro andranno tutti quanti assieme e ora se la pigliano nel culo perché almeno uno di noi arriverà vabbè ma se ci attaccano si si ma infatti se ci attaccano il guardian dall'altra parte si distacca e va subito una letta come stai caro esatto quindi l'importante per i camion è che vadano al 911 che è la nostra safe quindi io prendo un camion e il guardian viene con me andiamo verso destra andiamo all'893 e famo il giro di là l'altro invece fa la parte di qua a sinistra quindi fa l'828 827 26 ecc 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 ora vi domer ci ricongiungiamo praticamente dove c'è il ponte della route 11 dove c'è quella T posso chiedere una cosa? prego totto prego 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 Carlo appena arriviamo al 911 non possono più asfaltare 911 però aspettate hanno scritto gg911 non è che c'è già altra gente perfetto oh merda no no ma si è ancora in corso oh merda ma siamo noi non siamo noi grazie Axel ma ci sono due bossi per caso qua per noi 3 6 6 6 6 no 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 ma... 6 6 6 6 6 7 8 9 8 10 10 10 10 10 ragazzi e lo chiuso a venga dentro fuori mi fa paura ascoltate bene velocità massima nella cosa non sanno gli altri no 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 va bene 5 5 frae 1 1 noi seguiamo il cammino di rito cosa devono chiarire si manca quando sei rimasto il posto prima volta ancora la v3 raga eh la tipo è un evento occhi della moto è un assalto organizzato guarda la vita il uomo aspetta l'acqua sull'uomo sull'uomo appena la mia città ragazzino il punto di vista è stato un pochettino ma la segnala che lo fa la pp e' andata e' andata c'è un po' si è incastrata nello spuntore del cancello una cosa merito sposo tu una cosa serissima c'è qualcuno che mi sta facendo i grattini sulla schiena la piantata no cosa sono io ok ma noi dobbiamo seguire ragazzi scusatevi e poi a quella destra destra c'è un pochettino c'è un pochettino c'è un pochettino ma ci stanno già seguendo no no ma io bruno mi stavo grattando la palla in mezzo hai capito da dove devi passare allora adesso guardo dietro no io seguo il cavo no 893 893 abbiamo una moto e un camacho e una jeep dietro noi 2 mezza 2 mezza e moto ma raga ma non dovremmo passare guarda che fermiamo e spariamo ma loro devono sparare prima noi eh boh mi tolì a loro 834 si fermano si stanno fermando vogliono bucare le ruote ora sono 3 in mese e una moto 3 in mese e una moto corretto ma raga li sto chiamando eh ma così brutto no penso domani spero franci spero arriva la moto però se guido bene non è colpa mia ok ha rallentato ancora oh da stiamo andando avanti ci stanno proseguendo e vogliono pittorchi è caduta la moto nooo è caduta la moto quello con la moto si è fatto malissimo questi sono forti noi dobbiamo scendere per sparare per forza si ah per forza allora che non ti fermi sparico la carabina dalla no l'ho visto no non puoi sparare la carabina con la macchina lo so caro no 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 altezza dopo il 844 si chiamano ma bro ma qua arriviamo a destinazione sul conditivo così il guardia non si è staccato arriva la moto manetta il guardia non si è già staccato ragazzi arrivano arrivano vogliono pittorci sennò hanno bloccato tutto hanno pittato il camion siamo dietro difendo il camion li butto in acqua raga vai 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 pensa a quello davanti iniziamo a peta a ammazzare questo dietro ragazzi è da solo ragazzi non possiamo ok no come va ah ma il camion si è fermato oh mo ci sparano mo ci sparano mo ci sparano ah guia eh dov'è il camion? ok è dietro ci fermiamo ci fermiamo ci stiamo scendendo scendiamo ragazzi scendiamo qua ecco la lì richiediamo supporto fatti due eh questo è una body bloccata mezza ai coglioni questo qua mi ha preso sotto e mi è scelto davanti ai coglioni mannaggia ma un piano ben preciso per salvarci raga dipende dipende da come sarà il tutto ragazzi eh dipende da come sarà la bomba e tutto quanto un piano c'è un piano c'è un piano sicuramente ci sarà raga un piano c'è ma raga ma uno ucciso in un modo molto bello aspetta 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 tu che sei dietro passa passa avanti caputana no scusami scusami ci siete eh ma vai andato dietro dietro bello mio marcia dietro e abbiamo un smudge mamma mia coraggio adesso dove andiamo oscar grazie per il like bello mio benvenuto ma stazioni spaccano comunque abbiamo mangiato eh sì eh decisamente sì tutti da guerra bambola siamo un po' dietro con il fisico perfetto non sembra ma servono servono tanto le persone come me che magari non sono bravi come non mi ha fatto dire gira gira ma che sta guidando io io eh stavo parlando sentiti eh sto dicendo sì non servono a persone meno brave di me come me rispetto a voi meno brave rispetto a voi a con queste persone a sinistro servono tanto perché impariamo tanto da voi impariamo tanto la situazione ma sai cosa in queste azioni devo dire che conta molto l'organizzazione eh sì ma se sei furbo punto sempre organizzazione non ho mangiato l'esercizio sto parlando da morto, mi sentite? sì sì allora ora mi calzo corso osa mi fra mi chiamo mentre sparo mi chiamo mentre sparo bello mette, imbarichiamo no 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 mi chiamo uno mi chiamo due mi chiamo tre 4 5 3 ok perfetto Molto bravi, molto bravi Eccoci Ok, allora tutta questa bellissima roba qua La possiamo tutta far sparire, tanto non ci serve più adesso Adesso dovete attaccare la fazione TZ Ok Sei stato il primo a andare a terra? Io so, 1, 2, 5 Ma no, mi ha bloccato quello lì, mi ha buttato sotto col cane Oh, mi chiami per favore, solo per prendere il parole da parte mia Scusa, frà, scusa, è colpa mia Eh, dimmi Mentre si spara mi si doni la pistola Ok, quanti sono loro? Misha Allora loro e sono in 8 Ok Va bene, io riorganizzo loro E dove stanno, civico? Perdonatemi ragazzi, scusatemi Prepari di Axis Il loro civico ce l'ho comunicato a Pogm Una parte dei miei e una parte del mercato nero Una parte sono i miei ah, che ho motto ha finito una 30 Facevido pure loro Quindi si stanno riuscereogrammi Perfetto Raga, ami riuscito a ridare il giubbotto Misha 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Anche 184 per favore Eh si ma non riesco a fare un c***o Anche 185 eh Eh va bene Però Ma raga Ma i cicci si possono usare, è vero? Vedammela che il numero è? Minchia prima c'avevo tutte e due le ruote bucate davanti Sono andato per frenare Il camion è continuato ad andare dritto Mi ha schiacciato Non ti ho schiacciato io Debitare 100 milioni dazzo Debitare 100 milioni dazzo Ma se ha pagato il suo per investirmi Non è colpa mia No minchia ho frenato di colpo E che c'avevo tutte e due le ruote davanti bucate Non c'è bisogno dei miei palli miei E' proprio un odio che hanno nel sangue Mi chiami mentre sto sparando Mi ha fatto morire Non mi chiama più Non mi chiama più c***o Non c'è dei minuti Ok allora raga Ascoltiamo un attimo per cortesia Questi sono in otto Questi sono in otto Quindi io mi distacco senza nessun problema Perdonatemi No Signor con la maschera Vieni un secondo con me Sì Vieni ragazzi Tutti quelli che non partecipano Perché dovete essere in otto Aspetta 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 Venga un secondo con me Ok Spero che io ci sia un inquilotto Dai piedini Hai chiarito con il mercato Sì Ma è una cosa Oc questa Allora io vorrei fare una foto Ma il mercato non è Lì dovete assaltare voi adesso E' per quello che noi ci stanno cambiando l'identità raga L'altra razione andrà per Sì 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 Ma con mezzo di squadra è troppo facile raga Ma se sei morto Fra Ho fatto i tre Però non ha chiamato il suo morto Fra Non è che non ho fatto niente Non ho fatto niente Non ho fatto niente Quindi da qua Quelli che non partecipano Nel prossimo assalto vostro Possono andare da Silas A dargli supporto A merda Sì Mi spara con la radio E' vero non mi sparava E quindi stava così con la radio Ma si può sparare così? No Ma guarda che non si può sparare Era bugato col telefono Era bugato col telefono Ah non si Ah raga Raga Mi hai chiamato eh Mi hai chiamato eh Dimi Sei chiamato? Sì Allora ragazzi Un attimo solo per favore Tutti quanti Solo Ombra Chi vogliono? Signor Ombra E' richiesto da signora Ma no ma questa è una codice Se vuoi entrare davidone Allora Noi ci stacchiamo in tre Così non avete sovrannumero Che andiamo aiutare altri La cagata Noi ci stacchiamo che andiamo aiuto agli altri Coordinate l'operazione Ma dovete fare come prima l'attacco però con un'altra fazione Ok ok Fate vobbis Noi tre ci stacchiamo Ok Eh Eh Adesso per te lo dicono Adesso per te lo dicono Adesso per te lo dicono Io Io Darko E direi Noiz Vedi come me E voi regatevi al 341 e vi incontrate un tetto di sita su No 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 Vada 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 Allora i ragazzi che siete qua che rimanete qua Vi comunico il civico dove dovete assaltare frappure Ok Zitti però raga un attimo Datemi un secondo Innanzitutto siete tutti pronti? Avete già tutto quello che vi serve Eh un po' troppo io ho perso il giubbotto per causa di nota Merda Com'è il numero? 150 165 caro chiamami quando vuoi Mi fatevi i veicoli per piacere Beh Grazie Grazie Oh Ma tu napo Ah non hai cercato Oh no scusami Cava scusami Noi scusami Il lustre Fare il lustre Come sta fare la buccioclette? C'ave la ruota da storta S'è caduta Cosa? Anche in bicicletta se vuole venire sparavo La buccioclette Merda Ma comunque siamo in nove Non siamo in otto Noi Nove più Vabbè raga è importante vincere contro quella persona Quindi chi se ne frega Vabbè ma tanto loro sono fortissimi raga Sono a parte Si chiamano T0 Si chiamano Renatino Chetta Che fortissimi raga Chetta Chetta Che fortissimi raga Che fortissimi raga E poi non ti fa la sabba E poi non ti fa la sabba a te a soli Non so quanti euro Eh che casa hanno questi? Eh 3 4 Non lo sappiamo 3 4 Ok Venezia quindi Venezia 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 si Venezia si 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 Venezia si 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 Venezia prende il cazzo io lo so già Eh vabbè vabbè Nooo Dobbiamo andare a dare il cazzo a Venezia? Venezia Nooo Una nota Una nota passione Siamo de mega puttona No 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 ragazzi non sto capendo un cazzo Non ci sto capendo niente Toleranza 0 Toleranza 0 ragazzi Minchia o mezzi se non gli apriamo il buco del vetto Eh però occhio che dopo mi scrivono su Discord Cosa ti scrivono? Vabbè non capisco un cazzo Cosa ti scrivono? Siete in soprannumero Sicola vincere l'azione E poi gli dico Poi gli dico Poi gli dico Veniamo a sparare con i puristi Anche noi Vabbè raga Come ci organizziamo per Venezia? Venezia o no Salta Nord o no Io raga ho un piano Io ho un piano Secondo me se miriamo la testa Li facciamo tutti Quindi questo è il piano No dai raga veramente No vabbè a parte gli scherzi Secondo me loro prenderanno tutti i tetti Quindi è proprio una roba di merda Proverei andare verso il 25 5 e 3 e 26 E vediamo se riusciamo a prendere un tetto in alto E esplorare da là Aspetta Ho appena visto Il 3-4-1 non è Venezia No È dietro È dietro Il negozio di vestiti Ah ma allora Quindi ci prendiamo il multipiano sopra e sta apposta Raga una cosa Siamo in 4 e 4 Non ci separiamo però Perché prima ci siamo sparsi 4 e 4 8 No vabbè siamo in 9 4 e 5 vabbè Vabbè fa niente Eh però non so se viene pure Axel Quindi siamo lì Ma prima ci siamo sparsi però Ah non viene Axel No vabbè Sta E qual è il dio? Sparare qual è? Vatti Vatti Raga entriamo dai due civici laterali però eh Non è Venezia Non è Venezia Non è Venezia Non è Venezia Guarda la mappa Lo vedi? 3-4-1 giusto? 3-4-1 è tutto aperto Sì Entriamo dai 6-3-8 Ma sai al 30 6-30 c'è multipiano 6-30 c'è multipiano 6-30 c'è multipiano 6-30 c'è multipiano Io vado multipiano Ragazzi ragazzi aspettate Non è quello il civico dove dovete prendere Eh infatti credevo un po' Credevo un po' strano sincero È un negozio di vestiti Comunque raga noi dobbiamo puntare All'altezza No all'altezza Ah ok Mezzigradio e fra ti misce che avessi troppo Eh fra ha detto puntare Ho detto vabbè la testa direi Eh no Con noi no perché siamo già in troppi Ragazzi ha puntato i piedi Davideone però è in trascita Ma alla fine quello che ti stava a dire E poi vediamo dove metterli Quelli che andavano a prendere cose Stiamo facendo un evento C Vero Si va a attaccare della gente Eh? Ti ricordi Silas che stava a dire quelle cose delle risorse? Eh Eh lo faremo anche noi questo? Sì Vengono anche da noi? Certo Ma con sta squadra? Noi con la nostra e loro vengono con Ma non berzo Silas Noi non siamo Ah ok Vabbè noi avremmo sempre 3-4 Quindi busciamo in 3-4 No? Andiamo cazzuti Ma bastiamo io mezzo un'up No Vabbè ma da noi è facile No Vabbè Ombra ma noi sicuramente Cioè io ho chiesto Silas E' meglio farlo l'otto Che cazzo mi frega che faccio lo slash kill Ma che cazzo mi frega Bravo cazzo Ghost mod e via Ghost mod e via Ma tu la smetti di terminare la signorina Ma che ghost mod? Ghost mod no Ragazzi è stata cerchandola la signorina in modo veramente vergoglioso Sì ma questo qua è veramente un lupato maiale Guarda No no questo è sicuramente si chiama il nostro Fatemi tutto quello che volete Nooo Vedete? Oh Oh Scusate a parte questo Io sarei più comprensio quello che ha detto Faccio slash kill Chi? Hai problemi alla schiena Depeccatelo Chi? Ragazzi 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 Allora Il vostro Il vostro civico Vi attacco Vi dovete attaccare L'838 Bah Bah Ragazzo tratto strattaccato Bello bello 838 838 Eeeh Alla casa Beh madonna Ci sta solo un ingresso tanto da là Non si entra da altre porte Anche sotto Nooo Eeeh Eeeh Senza via Spizziamo stor Odio Ragazzi non siamo sulla montagna Eeeh Ragazzi 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 Chi fa Eeeh Eeeh Venta le macchine va Eeeh Napo Stornier Hammer Com'è 838 Lo aspettare tu Arf Arf Ma che è? Oh no poi fra Venite qua dove cazzo andate? Vai 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 Ma stiamo da sotto noi Noi andiamo Noi andiamo Noi andiamo Noi andiamo Noi andiamo Ma che fa così? Ma che fate? Scendete e salite? Ho sciopato in posto Ah ma mo siamo Eh mo siamo un po' troppi qua Ragazzi Tutti qua Tutti qua Tutti qua Noi andate un po' di latte Ma ci facciamo a pulmonare 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 Il mantenente ontologo Scusa se Ma chi sta guidando Raga Scusa ma se passi Ma chi chi sta guidando Lume Tagliamo la montagna e passiamo dalla foresta Eh hai le forbici Guarda quanto tagliata Guarda quanto tagliata Guarda quanto tagliata Ma fra, ma con Ma che cazzo di forbici giganti devi avere per tagliare una montagna Se ti svegli Che cazzo di apriamo Ma togliata Mi chiamo ma toccarsi Power Game Nooo Bru Vedi guarda loro monotone di là guarda guarda Però comunque Non dire gli altri delle altre persone Ah o cazzo Scusate Ah no no E la mia e il mio ischia Ti vieni se vuoi venire Però vieni Dopo a un evento C il minuto no e poi ci divideremo per io sarò di lustre parla solo se lo sono chiamato illustre illustre ah addirittura chi è che ho sparato? no ragazzi ho visto un colpo eh no da dietro è il taser di no ooooh ooooh oh merda ma se tocchiamo dall'844? bello bello dall'844 l'844 però mi ricorda qualcosa a me pure o a me lo sai come volevo fa' questa cosa io quando mi hanno chiamato ha detto vestiti tutti nero mi son messo il completo sinner raga occhio perchè magari ci ritiriamo davanti potente però mi hanno detto che non andavo... ma perchè tutti montati? vaffanculo mi hanno rubato il posto vaffangrulo sacchia o merda sono sui tetti raga ma dove stanno? è solo sui tetti raga non so parlo che non arriva nei colpi aspettate raga vediamo un attimo dove stiamo spostare raga abbiamo l'affitto mettete il sorrone bravo bravo eh già mi hanno visto mi stanno spavando ce l'hanno visto? con gli scheretti eh io uso la pistola raga che c'è il long c'ha ma chi c'è il long bro? la pistola ha il long c'è la mk bro vieni laterale venite laterale a sinistra raga andiamo da sinistra raga laterali da sinistra bisogna entrare da sotto io vado da destra raga io vado da destra io vado da destra raga io vado da destra noi siamo all'1.5 capivi capivi aspetto aspetto noi siamo 4 con l'1.5 a destra andiamo da qua raga noi e noi siamo da destra venite da sinistra raga no noi siamo da sinistra ce n'è una slantata anche attenti cancella entrata forse qua ce ne possiamo fare 1 messi da qua ma io da solo da sinistra vado pezzi di coglioni eh dai io non li vedo io non li vedo ah ecco la vediamo chi è quello già dentro? chi è quello già dentro? che è quello già dentro? eh raga tagliamoci maglietta 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 levatevi maglietta ma hanno i caschi o sbaglio? non lo so oh sono là no poi ce li hai eccole 1 eccole 1 la tua destra casa la tua destra casa oltre qua adesso te li vado in qualche destra io non li vedo la destra da sotto 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 sbagliato che c'ha? la raga hanno i caschi per forza ma hanno i caschi? hanno i caschi? no ma c'hanno i caschi o e mettetelo lì dai eh chi ce l'ha? chi ce l'ha? io hanno fatto uno? hanno fatto uno? hanno i caschi dai schifo vabbè non me lo metto va non so come loro ma io non li vedo raga non li vedo ma non c'è fatto ma i caschi no raga ma perchè hanno i caschi? hanno i caschi questi l'ho scassato questo raga vabbè 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 e desarrollo i quadri vabbè 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 è andato giù un altro ah è entrato il nostro sono entrati i nostri dentro anche se avevano i caschi li hanno schiattati lo stesso che grande sono forti sti coglionazzi guarda il corpo di Amber si ma raga Amber Tango 4 bello amore aveva i caschi però io non l'ho piato ma aveva i caschi hanno tangato un po' mamma ma gli ho fatto il tango 4 ma te lo sei visto il tango 4 senza casco un bello mio? no no ma come tancavano un po', mamma mia tra gli per farne uno sudato 8 camicie eh pure io e non l'ho neanche fatto e almeno sono fatti quattro dopo perché erano fatti di vita mamma mia tango 4 lo so che lo sto dicendo sto flexando bro sto flexando il tango 4 è normale oh guardate così raga guardate così ma di oh raga ma dove mi hanno ho fatto ho fatto tango 4 abbiamo visto la mia fidanzata tranquilli l'abbiamo clacciata Napo ve l'ha clacciata sì sì però veramente io sono morto in strada e non so dove mi è arrivato scolto eh perché stavano sopra dietro tutti i full caschi stavano e i caschi no no ma raga sì 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 tutti col casco stavano in patti io me lo son messo ma raga ma ce lo andiamo a mettere pure noi ma raga io ce l'ho il casco fra io ce l'ho no perché se lo vedi tu sei formato ora io faccio un sacco le spese e direi che vai in grado grafico tonno gg bravi minchia questa vado a vestiti come 9 raga oh eh buddy buddy per togliere la radio eh eh f7 e la bacchettina eh buddy secondo me t'hanno fatto uno dei nostri bro sai non lo so vestita così secondo me t'hanno fatto uno dei nostri no ero... ero così ah buddy no allora no ma ho fatto tango 4 no ma no bravi ragazzi bravi 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 bravo la son vissa tutta perché ero in strada esatto marco esatto però uno l'avrei fatto no porca puttana chi è che c'è la spalla ragazzi comunque eravamo vestiti tutti uguali non si capiva un po' eh infatti ci si sono tolti la maglietta vabbè gg a tutti regazzi ma scusate chi è così chi è così che è il pazzo di vostri che è pushato da solo dietro io posso riascire ma cosa perché la mia destra attaccante e la mia sinistra la fazione che difende ma qual è la sinistra? qua qua stanno noi qui no poi qua scusa capo dimmi ma si poteva usare il casco cioè si potevano da mettere pure noi il casco ma che teuse il casco regole dell'azione assalto alla casa fazione che te ne fregano il casco sono soliti a merda. allora ragazzi chiede la posizione che ho vinto attaccanti attaccanti scusate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ma sono 10 io ma noi siamo 8 ma scusate ma abbiamo detto che dovevamo siamo 9 ragazzi ma scusate ma abbiamo detto 8 8 perchè sono 9 avrà bene, facciamo la mano, 5 6 7 8 8 lumezi il vero 6 dovrebbero essere tutti ragazzi siete 9 9 no, noi non siamo 9 ragazzi questo ha contato a moda e non mi siete 9 o 9 siamo 8 no 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 la ragazza sta con noi e la ragazza sta con noi la ragazza sta con voi io sono il diavolo sono andato a prendere vostre anime all'inferno e ve le ho riportate bravo scusatemi allora sulla mia sinistra siete in 8 alla mia destra siete in 9 no no la t fa con noi e la t fa con noi ma io non conto ragazzi io non conto è una manacorra vabbè no ragazzi non conto a me le scarse non ho manco sparato raga avete giocato con un 8 v8 perchè io sono morta subito e non so manco chi mi ha fatto vabbè però comunque con le gambe io si ragazzi è una maggiore che ha vinto gli attaccanti ragazzi tra l'altro c'avate tutti i caffi la fazione degli attaccanti adesso fa il convoglio e la fazione dei difensori può attaccare il convoglio e dateli un attimino di scarto li fate partire dovete recuperare le vostre risorse dal convoglio si ma devono tagliare i caschi però ma no ma no mi va male lo stesso anche scusa andare con la faccia allora ci mettono anche noi ragazzi vai andate per mettere i caschi dai ragazzi 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 giocate ad armi pari ragazzi giocate ad armi pari o tutti i caschi o tutti i senza tutti i casi ragazzi se non li avete se non li avete fate tutti i senza ragazzi ma cazzi vostri prima non iniziere che sarai ragazzi 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 silenzio per piacere ragazzi silenzio per piacere allora siamo qua per divertirci ragazzi ci stiamo facendo questo evento per divertirci mettetevi pari mettetevi pari se i caschi non ce li hanno gli altri fate tutti senza caschi ma l'abbiamo fatta fino adesso senza raga ma che vi cambia raga toglietevi tutti sti cazzo di caschi togliete il casco lasciateli raga fate senza raga eh cambia allora organizzatevi ma sta sta ragazzi ragazzi silenzio ci vediamo allora fate il convoglio alla fazione che ha vinto se al massimo tiratevi fuori un camion e qualche auto le zio dagli una mano tu dammi una mano per piacere perché sono a coordinare 50 persone stasera e ragazzi organizzatevi il convoglio e ci sta qua davide che vi aiuta da la poma è tutto in garage faccio pom pom mi lascio ragazzi va bene si mi sono sbagliato dov'è che dovete andare voi guarda telefono com, sai come ora mi chiamo iniezione dove dovete andare non funziona la regalo a testa mi dite dove dovete andare voi in che senso ok avete vinto? abbiamo vinto ok allora attendiamo un attimo ma mezzi comunque la migliore è qui in mezzo la migliore è qui in mezzo è lei la migliore so io no la migliore è lei è un bersaglio mobile è un bersaglio mobile è un bersaglio mobile la mia fidanzata in questo attacco non puoi entrare siamo già 9 contro allora ragazzi c'è ha fatto la forza a me il gioco raga fatemi un pavore riuscite andare a prendere i guardian ma no no ma mi tippa però slash me si give patate slash me si tippa tanto carolina non ce l'ho aggiunto non c'è in tasca ah in tasca ma me l'avranno messo un secondo ragazzi non si vado solo cavolo 165 ragazzi ragazzi ma quello là che dice i cazzi vostri ma cazzi vostri bambino di merda 65 grazie caro bravo mio del cazzo c'avevano i caschi tutti e rafferano i caschi si lamenta un po' dai basta basta abbiamo vinto basta è perché abbiamo vinto che fanno così basta quando prendono i caschi sai tranquillo mi spara in colpa body andiamo mi dovresti ridare il giubbo e farmi unire gentilmente c'ho il giubbo anche prendiamo sta roba e andiamo a chi? a chi? mi hai beccato ti riesce a ponire una bellezza no non c'è il cibo ah ora si è andato in tacco perchè ha una manna fa 130 ok posso bro sei un hacker? 122 ti serve sul giubbo mi fai slashtagli i miei animi ma perché? ma sono immortale noo si è messo cotto 130 per favolo vieni vieni fuori in testa vediamo e lo pavolo bro loro l'ho subito radiato in testa guardalo così però va a terra no ok no 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 c'è il cibo a noi sono in 27 non moriva mai questo sono solido bro ahahah migchia questo solido lungo in giro non muore non muore dai raga va che guarda non vedono ecco eh si stanno anch'io qua come se lascia di aiutare eh no non è un problema cioè è un problema è un bugger è un bugger eh slash die slash kill slash die e ne le fa oh cappone che cazzo di fine hai fatto tu ma entri è un pochetto cazzo stai facendo cazzo stai facendo non mi hanno fatto oh merda oh mi sembrava strano è pure così vai giù però è pure così vai giù ok ok ascoltate il secondo no ascoltate per secondo ascoltate per secondo faccio fin da non aver visto quella cosa ascoltatemi eh ho l'ho accorto ma ehm si lo so me lo so accorto ehm non so com'è da parla te la tolgo io ma sei stopper tu no io no ma va sta scherzando io si sta scherzando ma per niente per me non sta scherzando eh oh è un stopper c'è un po' mica lo fa apposta allora fai una cosa ehm hai fatto quitte no 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 ehm porco du aspetta aspetta mi ricordo come si faceva il computer ragazzi avete venuto di giù sentite qualche biglieto che vi piace per fare il convoio no è vuole è vuole sinceramente a me piace il gokart ehm dacci un po' no ehm faccio un po' un camacho un mezzo un mezzo un mezzo un mezzo un mezzo un barracks un camacho un mezzo un mezzo oh è bello ok aspetta ti porto io in cielo e su cil oh zio c'è stato beh l'unico un po' che è fallito dove andato ma che cosa stava facendo questo ragazzi quello cittava cittava no no cittava allora qua noi siamo a fare il nostro piano però se noi dobbiamo fare la tattica eh si zio vieni con me dai che ti porto grazie gentilissimi eh perchè dopo sennò sei si non bricoglioni che pure siamo in god eh capito ho so un numero ho so un numero una volta devi affittare una discoteca e invitare tutti gli abbonati e mettere cioè tutte le tue tipe abbonate devono urlare Amber nel locale e te devi mettere la musica secondo me la moglie è felicissima di questa cosa sai oh cazzo no invita solo i tuoi abbonati eh 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 mi ricordi già sapete cosa volete come dici due mesi un comment dici due mesi un comment ma due mesi un comment ok ma io volevo dici che hai i tuoi occhiali e le tue cuffie io qui, si deve togliere ehi e niente vai ti ricordi qua erano chi sono? no Nicola? Nicola? Nicola mi sa che non ti rivenghe le tue me? no ma perché non mi ricordo mai di nessuno? perchè ci devi mettere più tabacco forse ma eri con me? no ti scrivo eh il cognome? salta ah si dico salta finalmente ci vediamo finalmente ci vediamo ma con chi sei tu? fra il mese fra il mese con chi stai? con chi stai? col mercato non si può 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 e in più oggi ci vuoi una prova oggi ci vuoi una prova oggi ci vuoi una prova lo sai perchè è amer amer oggi sono andato alla col tre Ho tre carabine in tasca, mi hanno fatto, ma tu di chi sei? L'ho fatto su di Hammer, io vendo carabine Alimentate, guardi più Non ero puntato, ho cantato di mille Aiuto, mi hanno intrappolato Oh, mi serve un quarto di giubbo Però, un quarto di giubbo Mi serve un quarto di giubbo Hammer buone, Simo, hammer buone Un quarto di mille Ciao, sei donato Oh, disattivato Euren Ok, raga, funziona, ora non c'è più, cazzo Ciao, bello Ciao, bello Scusa Ragazzi, ragazzi Non abbiamo molto tempo, per piacere Venite tutti quanti fuori, restano nel giardino E cominciamo a fare cose Eh, raga, lietevi sempre le macchie Loro sono vestiti sempre di nero Ok Sto facendo venire Ah, sto bello che è lei Aiuto Ammo, ammo, ammo Guido io il camaccio rossa Allora, ascoltatemi tutti, non vi muovete Aspettate il mio ordine E poi partite Saluta me Ok Possiamo salire Potete salirci, ma non potete muovere Reg0 Reg0 andiamo, 4-4... uovo al common Reg0 andiamo, 4-4-4-4 Stephen Cioè, alle regole Avete capito, eh? Non dovete rimarrarvi Non dovete arrivare a destinazione Sempre 9-1-1 Sempre 9-1-1 Se arrivate al 9-1-1 Integri Allora devi diventare come ho fatto prima per la sede di queste si chiudono e ci spara per strada ci dobbiamo sparare no per ora in bagno lume di sali su un trattore rosa poi voi andate e gli altri prebottene il pomoio minchia la scuola di propeller ma è sempre lo stesso ho fatto la squadra di amma che grande dobbiamo proteggerlo ossia ammere in live alfa in live devi distocchiarci la carabina no non dobbiamo partire ha detto ma suonate chi guida il camion sport eh la guida ombra al polizio l'ho fatto guida farlo mettere in mezzo ombra mettiti in mezzo ai camacha ragazzi fintomano si caro siamo pronti partenza allora pag materia via 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 come andайте in difference iety RAGAR lì dobbiamo stompare come abbiamo fatto ele 했습니다 potendo 5 come mi marzo un anno al momento per te hanno un pollo ma lo sai perchè non ho fatto niente perchè napoli mi rubava le kill le andavate dietro e se le faceva tutti a dove abbiamo arrivato? ho preso oh ne ho fatto uno sempre ne ho fatto uno ho fatto stilt bro tutto stilt ma il camalcio nero non capisce andiamo noi davanti e voi state dietro dai vai piano bro stupitini a dove ci aspettano? non attaccano? lascia il furgoncino davanti bro eh però andiamo veloci regà no ma mi dissocio dal nostro al furgoncino oh raga al furgoncino facciamolo coppiamolo a panino si ragazzi ma secondo me ci spettano no guarda con il nos lo sta spettando eh ragazzi secondo me ci aspettano in mezzo alla strada e gli faremo un ppm della madonna oh raga andiamo avanti perchè se hanno fatto una barriera davanti alla strada ve la spettiamo fateci andare davanti ma non è manco assolto non c'è nessuno lumezzi lumezzi tu tango 4 io tango 4 no io poi non ho fatto niente fra stazione quella di primo ho fatto 3 3 6 mamma mia io so 4 1 bro piano piano ma non assaltano bro non assaltano ma secondo me ci saltano alla fine hanno tipo bloccato le entrate tu ragazzi secondo me non assaltano vai 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 si sa che tecchiamo il furgoncino in mezzo a noi controlla del colline oh oh perché ti è fermato il furgoncino oh regà ah ti attacciono ah ti attacciono ah ti attacciono come ti fa a sinistra alla sinistra questo veicolo di movimento sopra la collina hai visto il furgoncino rega il furgoncino che cazzo sta dove è stato il furgoncino rega eh no vabbè 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 ti fermati oh 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 capito che sono andate di qua capito che erano andate di qua si siamo qua no fiorellino non sa ah fiorellino lo capito siete qui ombra non salti a strada ah ah eh vabbè tu fa lontano coraggio non ci sta nessuno bro c'è una ragazza con una ma resta nella fine ogni tanto c'è anche una ragazza ma secondo me sono belli camperati ma guarda che dici vado a controllare vado a controllare eh ma ci sto un po' se è così bro li attacchiamo se è così li attacchiamo andate da dietro ma non posso non posso non sapeva che siamo al 9-1-1 a portare le cose dai ah ok eh cioè non lo poteve eh ricordo oh l'ho sparato vabbè hanno sparato no vabbè è arrivato a destinazione è arrivato a destinazione ragazzi arriviamo cazzi loro manda va 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 eh il furgoncino sta arrivando dietro dai scelera 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 il l'amore c'è un'altra fatta un disegno abbiamo vinto il giro che per me metà la città ancora abbiamo allora raga è stato la gru signorina non fulghe amate però sono venuti tango 7 un secondo un secondo sono senza casca ma non è che si deve rifare perché non c'erano proprio in mezzo alla strada è deciso un uccello non so se erano preparati ho visto ragazzi ho visto tutto il bravo ma tutti hanno dato la via quindi una volta che ci hanno dato il via potere che sono stati autorizzati da una porta anche loro allora signori molto bravi molto bravi avete portato la consegna al posto giusto adesso aspettiamo che anche l'altro gruppo finisca l'ultimo convoglio ok e quindi ragazzi boh cazzeggiatevi un po vado a dare un occhio all'altro gruppo va bene e chiamati anche la controparte di questa azione dell'838 quindi chiamati il gruppo di gm qua ma hai rimanato chiuso a dove stanno? ma li devono vedere? proprio nella strada c'è no mi sa che lo sa eh beh lo so fra gli ho detto che ti devo dire ah no ma ditelo un'altra volta ah merda andiamo in noclip a veder l'azione mi porti? a quale? a vedere un'altra azione c'è un'altra azione oh merda tossicismo tossicità 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 va bene così nooo va bene così ha tossicato il mio nico napo vieni in capo? oh shit oh shit No, chi è che mi ha spalla qua? Vieni qua, vieni qua, vero Hammer Non c'è colpi, non c'è colpi, non mi spara Eri già morto Eri già morto, fai una rola, fai una rola Hai visto? Quanto ti voglio, Hammer Ragazzi, chi è che mi ha fatto? Tu, ma Eh, mi hanno fatto Ha fatto un prozone, mi ha fatto Ha fatto un prozone, ha fatto Ma che tu mi hai fatto? Stavi in capriola C'è l'anarola, c'è l'anarola L'anarola sta fatto Hammer, hai capito chi sono i boss? Stai qua, per favore Ci ragione No, no, siamo noi Siamo noi Dai, per favore, c'è un incontro per favore Che è successo? Che incontro da? Non lo so, ma potete venire qua tutti tranquilli e vestiti Mettetevi tutti quanti in linea Ma lei è una polista? Anch'io lo so, piacere Piacere Io bene Anche io Vabbè, ora mettiamoci in fila, va Oh, dammi dei colpi, mezzo, dammi dei colpi, mezzo, dammi dei colpi, carabina, mezzo, non è più, non è più, non è più E ma come facciamo? Speriamo con i piedi, bro? Cosa speriamo? Con le rocce? Ma riusciamo fare una linea, ma io però vorrei, eh, devi in fila, io scusi, io voglio l'illustre avanti, io vorrei l'illustre avanti Anche io mi ci metto avanti Mettiti in fila Ma non eri in recluta? Io eri in recluta? Io eri in recluta, capobraccio armato, cazzo, dici Io sono caporegimento Ah, ma lui è il soldato? Ah, no, vai in fila, va, che tu sei il soldato Magari, sì, lui è il soldato Ok, posto, posto Va bene Ma io posso fare VDN per caso, non fanno Lumezzi è formaggino Ma perché abbiamo un Marantzo come capo, raga? Manca solo la Sakoshi Col baffetto Gli mancano le TN È la dodicesima volta che lo mazzano Non ho più colpi, ma È il giubo, è il giubo, ma chi me lo dà? È pure a me il giubo mi chiamerebbe Oh merda, oh merda Comprano ieri di TN Ma tanto ormai sono abituato C'è il diavolo che ti vuole sparare, occhio Ma io lo macumbo il piano Prima ti ha dato la sua acqua santa Oh merda Due, due, tre, quattro, cinque Mi hanno rotto il cazzo Vai 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 No La prossima volta Alza la voce Ma è qualcuno? Ma Ma Allora 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 Abbiamo finito Credo Davido Ma comunque vieni qua Ragazzi Ma non è un'unione Siamo Ma è Che io sappia Sì Stasera dovevamo giocare E magari ci siamo persi Un attimo Ma Il diavolo Ma ha dei colpi In più per caso R Volete vedere come vi spoglio tutti nudi Lo faccio da solo Oh sì Io sono un diavolo ragazzi Lo faccio da solo Mi piace Io faccio peccato Non ho bisogno Non ho bisogno di vasellina ragazzi Il mio altro Prendiamolo cattivo cattivo Sempre Ma tu sei una donna O Nella Morella Ma chi? Ma raga Allora Dobbiamo aspettare Dobbiamo aspettare Gli altri tre gruppi Che hanno partecipato Ma che hai detto Se siamo uomo scusate Voi siete stati i primi ad arrivare Molto bravi Io Ma quindi abbiamo vinto Cosa? La coppa Io E il donno Ma dobbiamo aspettare Che arriva il gruppo Che era contro di voi Adesso Ma si è perso? Insomma Ebro ci stanno Cerchando di assaltare Ci saranno appostati Mi raccomando ragazzi Non farmate Non farmate Fate i bravi Concludiamo questo evento O meno Prima che flamma No raga Facciamo le persone Vabbè o Ma quel bambino Che dice Cazzi vostro Cazzi 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 Ma Hanno fatto Hanno fatto una cosa apposta Per me Per fare Un riso a patate Fatto bene Quindi non serve A niente Da Coppa Tardino Metta Come si ce ne hai Gli accendere Di a merda No Somma Mi sono fatto Torghò 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 Guardate Guardate Torghò 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 in fila che stanno arrivando anche io voglio capire il prossimo che esce dalla fila la fila lo butto giù poi non lo tiriamo su la ragamma ha buttato la fila, maranta e quindi ormai sono abituato ragazzi mettetemi in fila anche voi per piacere, mi sono messi in oro, grazie che fila di merda dai mettetevi bene ragazzi venite qua sotto, non sparate, non sparate, non sparate o dietro di noi, mi ci vuole sparare mi sa non sparate raga, non sparate a delle montagne sono scesi largatevi un pochettino facciamo uno spazio un po' più caro ci sarà un incontro qua, quindi largatevi un po' e mettetevi in fila piazzate però un primo no noi siamo già non postate, non possiamo togherci dalla fila dopo che cazzo ci rimette in fila ma che cazzo dici? è troppo difficile mettere in fila ma che cazzo di coreografia è qui? più indietro artistica abbiamo i due centrali che sono un po' storti ma la donna uomo? non è una donna uomo la donna uomo? oh, è una donna donna ma come donna uomo? spara un po', spara il mezzuomo il mezzuomo spara lo diavolo, spara lo diavolo ma chi che sta dicendo che sono un mezzuomo? vediamolo, il mezzuomo ma chi? questo qua vabbè molto simpatico abbiamo notato lui è cornuto e deve insultare un po' stavo scherzando non te ne sparo si, si, spara, spara e sparo no, dopo non ci danno la coppa tra iardini vai, vai, spara, spara nooo la coppa tra iardini non te lo la dice sparo sta venendo i morti il primo desiderio la coppa tra iardini è anche morto la voglio pure io, reggate il tuo numero al tuo numero il primo taglio in otto mesi non mi puoi efferchare io non mi chiamiamo scappella scusi dai eh sai, ho fatto tambo uno ma lei vende enciclopetia, eh? no, io vendoci cervelli però vedo che lei ne servirebbe uno affilare uno numero non flammare le cavo non flammare 169 la coppia grazie assa la coppola facciamo il sentente per questo primo tango in città grazie mille non lo voglio dire la coppa triardino che coppa triardino ma si ha perso come fare c'è perciò ma mi hanno storto la fila e la coppa triardina ragazzi mi sta bene mi storgono oh voglio la coppa triardina 148 sono fatti sei prima no niente per te solo per la variata ancora però per quelli con la caramela voglio la caramela voglio la caramela chi è quello che mi ha sparato voglio farlo con le scarpe bianche è stato lui è un po' un fail ok sta allora un attimo di attenzione è piacere ascoltatemi un attimo parlo io sta arrivando l'ultimo l'ultima fazione ci mettiamo voi siete già in fila aspetta lo dico allora ragazzi fate tutti quanti una bella fila magari no c'è anche rifatto la fila questo lui ragazzo la fila darei ma io è questo tamarro chi è questo tamarro scusi 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 ma questo tamarro qui ma lei va la motora io il tamarro ma guardi lei che c'ha le corne qua è la cresta ma che vuol dire io sono elegante io sono il diavolo io ho preso un sacco di stasera tu non ne hai di quanti anime ho preso dall'inferno di quanti pesci ho preso in faccia non ho capito aspetta secondo solo perdonami chi è che ha detto quella cosa io che hai detto scusi non ho capito pensavo che ho preso tanti carri no no aspetta ti faccio una bella cosa sta flammando sta flammando flash e banner flash e banner flash e banner scarpetti ma guarda la poca rica allora ok la pagate di me grazie a te per la crescita quando arriva rondo ok io vorrei fare un applauso a questo signore qui vedete è appena è appena è appena tornato da cernobyl ed è ancora vivo signori ah ok allora un applauso grazie al tre li spariamo tutti in testa è stato è stato ci avete provato eh bastardi chiedo scusa signor joel torni veramente nella sua fazione ci avete provato signori quelli della mia fazione torni nella fazione da me era tutto un troll ragazzi al mio tre signore signore io dove sono mi metto dietro l'illustre così gli impuccio il biscottino saresti con noi ma se l'illustre ma lei è un mezz'uomo? uno, due, tre un po' le tra poco mi pinche testa il piacere il piacere questa fazione è di puffi qui con mezz'uomo? ma bello vuoi andare a giocare a un server dei puffi? fammi capire queste minacce velate no dai oddio se c'è puffetta magari io sono il diavolo vedo le anime le polvo ferma non arriva rondo ferma confermato per il diavolo io ho in KO io ho in KO ma ragazzi è già galli e bianchi da destra che poverino è diventato è muto ma cosa che siamo facendo è entrata facciamo l'azione voglio sparare nel monte a posto ho finito grazie ma che l'ericottero camicart c'è un cargo bobo tutti a me 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 l'ultimo step dell'evento raga togliete le musica togliete togliete bro io chiedo l'ultimo l'ultimamente che potremmo fare è diciamo rispecchiare la volontà della città facciamoci di contro hammer così verifichiamo solamente quello che vuole la città vai facciamo fuori lo stè let's go tutti contro i colegni facciamo fuori tutti pensa che uomo ricerca vabbè tanto abituato non vi preoccupate va bene venite signori i nostri colleghi di lavoro io sto godendo un mod speriamo tanto ci siamo già abituati 60 di 10 momento serietà momento serietà momento serietà un attimo voglio dire una cosa gg veramente quest'uomo veramente ha fatto una bella cosa ragazzi c'è gg mi è piaciuto e poi ovviamente a tutti e ovviamente anche a tutti voi ragazzi bravi bravi bravo miscia bravo miscia bravo miscia mi sta bene il diabeta se le cose fossero sempre così se le cose fossero sempre così ragazzi che divertimento è morto macchina vita a tutti macchina vita a tutti sono morti tutti in progno basta oh ma non muore quello cazzo quanti con la cazzo detto ciò ragazzi per me confermato a tutti quelli che sono morti in quest'azione che bello io sono vivo io sono vivo sono vivo mi sarebbe piaciuto per marmi abbastanza non ci siete riusciti come lì che si sono lì anche perché non vuoi uccidermi non vuoi uccidermi anche perché dimostanto avrei sarebbe morti tutti quanti io voglio ma che cazzo sono quelli boy scout io proprio sicuro ok ma poi il ciro non c'è il mio poi il ciro non c'è spero vi sia divertiti gai a bianna mi ha ucciso quell'altro dietro cazzo ciao 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 dovevamo affrontare a noi blu noi facciamo tutti quanto tutti ma noi in difesa no bella grazia ragazzi 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 ciao ciao 11 adesso facciamo tutti cosa facciamo noi abbiamo vinto vai e ormai è finito l'evento ma io volevo una coppola vado a dire vita siamo tornati a raga posso vederla la puoi dare un attimo che voglio vedere ne 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 ehm se hai qualcosa sotto la scia alzano le mani non azzare le mani che tu mato solo dell'ora non lo voglio mangiare prendiamo questo guido io che no guida mezzi merda facciamo la preghiera si fa sempre le scorciatoie ricordatevelo visto a posto ma che salite voi chi siete e cazzo faccio o chi sono questo che siete o o chi sono chi siete o per la prima proposta ma chi sono andiamo qua scappiamo tutto aperto che abbiamo fatto nemmeno ci vogliono uccidere più o che fa questo e vedete un po' caro serpino regola numero 8 programmento che fai raga comunque siamo un po' in ingaggio la sua ingegnata scegliamo a scegliamo a scegliamo a scegliamo a scegliamo a scegliamo a scegliamo come deve essere indietro amici abbiamo perso ho fatto ma non dobbiamo sparare scusate ma che sparava dopo spara così raga stiamo o siamo tali che non abbiamo fatto neanche la difesa bro l'attacco serve perché sanno già che la difesa è più facile fermati che buco la gomma no che palle organizziamo qualcosa con sirastro ci attaccano a noi ma attacchiamo la sorpresa di sirastro no basta attacchi noi gli ho sparato io a noi non ci hanno attaccato abbiamo solo attaccato noi però ci stava a fare tutti contro armor a guadagnare i tempi ma perchè non l'ho fatto perchè non l'ho fatta perchè ha paura di amaro amici a guarda che il gruppo italiano e comunque dove lo compri per e sono tutti gli aerici dopo se morire per ma in questi cazzi o oggi sono per amere questa sera ben dimostrato che anche senza il mio amore grazie per il marco grazie per la migliora come stai fermo ok per me ok pure per me cosa volete fare ma dove andiamo qua boh vogliamo attaccare quelli di silas ma non chiediamo chiamo a silas e chiediamo noi quattro vogliamo attaccare vogliamo difendere vogliamo difendere oh parco dia vabbè rabbiamo silas e diciamo tutte le coordinate non so vabbè andiamo no che rabbiamo andiamo a casa loro andiamo adesso perché io non sto parlando vado raga che vado a pippare nell'altra vita aspettatemi ok a pippare no sbagliato ho sbagliato dovevo dire a falla plin plin dove è ma non abita ma silas abita l'801 però dove è silas da l'801 da l'801 ok si è ancora qua qua è andato voglio fare boom boom dove si lasse comunque io penso che colate le carabine no no vabbè io tant'io già due erano mia due tre dove si è rincolato una pistola e io non giulavo un po' di artino eccole eccole qui ah oh ah oh dove è stato io ragazzi che è non ti sento via d'Europa eh vabbè ma se parli così non ti sento aspetta che abbassi non si possono abbassare aspetta vieni qua no non con l'errato siamo amici dove sta ok arrivo arrivo oh no con te no con te ma che è sto bambino sei formaggino minchia 99 like dai ragazzi ancora un like e siamo a 100 babysitter babysitter cozzo ma perché raga cos'è che è successo che mi sono perso eh no bro è arrivato una cosa mi ha fatto gli ho fatto dove è Silas no Silas non c'è no Silas non c'è Silas è l'ottosierò grazie grazie del centesimo te l'avevo detto peggio di marcolino cazzo te l'avevo detto eh vabbè ho voglia di uccidere qualcuno allora tanto non penso cosa fai andiamo a prendere giù ce l'ho già ma non me l'hanno mai tolto illustre un quartino non sei te l'illustre illustre solo uno sei diventato supervisore hammer di cosa hammer mi puoi supervisionare la luce destro perché sono ricevuti ho visto la nuova versione ci sta un botto eh l'abbiamo visto tutti facca eh cioè la centrale di polizia spacca si farai 15 fps là dentro però è bello quando è che la danno visto la parola fps eh fra che ti devo dire come devo dire quindi ho chiesto farfalle farfalle per secondo frammenti di macchine per minuto oh sit tu ci metti tutte le macchine della polizia là dentro il parcheggio tutte le persone no sinceramente la base della pula là dove c'è il governo non mi piace no è bella c'è la zona no la zona è brutta bro è bella ma il 5x5 ladro penso che la vita di assalti io ti dico che spacca mi piace eppure come fra come pure l'hanno mappata è l'hanno mappata tipo mappata è bella bellissima come l'hanno mappata è bellissima è tutta nuova capi sembra quella delle FBI non sembra quella della polizia eppure la palestra dentro vabbè la palestra e poi mettono anche la cosa che se tu alleni il PG diventa muscoloso ok sta cosa non mi piace perché? non ha senso dai ma perché non ha senso? però mai mi immagino io mi immagino Silas che sta allena la notte l'antirulante Silas dove sei? attacchiamo attacchiamo dove è Silas? eh? è Silas? è Silas? dove è Silas? dici tutte le formate dito dove cazzo sta Silas? ditemi eccolo lo sento Silas ditemi Silas? si vieni qua sotto vieni boh devo chiedere una cosa ha bisogno di un aiuto Tyron ecco duro vi piace visto che non abbiamo fatto la difesa ci attaccate voi per favore quanti ne siete? siamo quattro ma posso chiamarne altre aspetta no aspetta sì ho uno ragazzi quanti ne sono ancora dei miei? vatti procione vatti procione vatti procione vatti procione vabbiamo solo pure al parcheggio casanova ragazzi facciamo solo pistole ce l'abbiamo oh è scomparso no eh ma sto sempre là eh ce l'ho sempre io bro ma è strano eh però ti ha preso pure in braccio eccolo ok mi sono salvato bro mi dovevo sapare a tutti mi sentite basso a me ragazzi capo Silas cioè non è il mio capo però signor Silas l'endrem e se noi la rapiamo i suoi bambini la vengono a salvare no no stai vediamo quanti ne sono eh vediamo un po' eh vediamo un po' 2 mezzi di mette che c'hanno su pistole eh sono le pistole c'è t'è sveglione ti voglio bene anch'io ballo facciamo ragazzi oggi abbiamo abbiamo fatto solo attacchi non c'hanno quanto difende prendi conto si lascia cucciolo non mi devo dire così che ci vengono strani idee abbiamo vinto tutto tutto cucciolo cucciolo aspetta mi metto mi metto bello applicato per te e poi hanno dato la coppa tra gardino solo ad hammer che non ha fatto il cazzo non ha fatto il cazzo non l'ha fatto il cazzo ho fatto io che hai fatto? ma ragazzi ma festeggiamo la cucciolo cucciolo doveva dire che avevamo vinto allora i ragazzi non hanno fatto la difesa non abbiamo proprio difeso niente volevamo attaccarli no no abbiamo solo attaccato 6-4-8 ma noi siamo in 4 voi siete in 3 ne manca uno no no aspetta aspetta sa Savo Savo ci sei? facciamo solo pistole ma voi siete quente non siete quente casa no noi siamo pro noi siamo quelli del principe dell'illustre principe di spruzzo tutto lui è il principe lui è un cucciolo è un maranza è un maranza cucciolo è un po' di spruzzamento cucciolo cucciola pistacchione moschettone oh ma avete la mk2 oh cucciolone cucciolo mandormina noi siamo cucciolotto uscirono pistacchione i cuccioloni madonna con cannolone sono 5 loro 5-6 quindi cosa facciamo 5 di 4 siamo 6 io e loro sono 3 perché io ragazzi chiamo altre persone facciamo 5 ma si dirà che io faccio cagare am attaccate qua no voglio difendere voi qua eh si dai già siamo qua ok siamo qui allora ragazzi vediamo qua il gruppo di hammer sta a casa 8-0-1 ma con le carabine e noi stiamo in assalto 8-0-1 no ragazzi gli faccio venire 8-4-4 gli faccio venire 8-4-4 è meglio è brutto è brutto l'acqua non vuole dita mi c'è 4 scegliete voi scegliete voi a me casa vecchia nostra ma almeno più grande 8-4-4 vuoi andare eh si ci vediamo allora assaltiamo 8-4-4 hai rubato la macchina si oh hammer hammer aspetta prendimi in braccio prendimi in braccio mezzi e Samir vai no creep e ci porta di sotto di sotto hammer hammer gli stanno stai facendo son morto no hammer rianimalo rianimalo 1-6-9 con le pistole ok con le pistole usiamo questa acqua per tornare vai prendiamo questa macchina qua raga 1-6-9 chi è questa ma non messi la cacca ma non messo sotto ma come ho messo sotto per sbaglio ma non messo sotto cazzo scusa cucciolo tranquillo mentre facciamo la storia del giacondavino clip e ci prendiamo la cacca prendiamoci questo e' andiamo via con questa eh ma ci sta pure un po' di approcione però non ci sono non ci sono no siamo in quattro siamo in quattro dai guardi io come ho un conto dove sono su fanico vabbè ragazzi no stanno andati a dormire insieme no non so se sono insieme che cuccioli ma una cosa eh c'è la chiera eh vabbè non l'avevo vista lui c'è il no tour sicuramente e no io la come si chiama l'anno lo provo bro scusa eh mi fai un favore però no compagnia mi prende il giubbo che mi hanno ucciso ah va bene no fra il giubbo dove sono non si può fare più power aspetta ce l'ho io il giubbo che numero sei 169 ok allora vai a casa vai fai power game vai signor Samir con il giubbbo con il giubbbo con il giubbbo la raccorda ma che stavo sparato io battarli oh ci sono oh ci sono no non sono niente ti sei perso all'inizio ti sei identificata ti sei chiesto che era la radio di noi questo è la radio ma come l'era da vostra oh merda all'inizio lì non ti sei perso di chi era un pezzo di v4 che avevo presentato la centrale del mercato nero l'altro alzo esco subito ciao a me vende le armi a me vende le carabine non è vero anche gli accessori non è vero mi dissocio da questa cosa gli accessori soprattutto le torce me le vendete tutte marroni finita merda arrivederci buonanotte arrivederci bello mio vediamo nella nostra 111.10 aspetta aspetta chiediamo oh supervisor non supervisare troppo quello che sto facendo però eh quanti? no napo ma no va bene eh si però deve uscire a merino clip non si esce da qua ma come non si esce? sicuramente no caro ma io sono un esperto guidatore mi chiamavano no non si esce vabbè esci dalla esci dalla esci da davanti da qua bro no 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 da sinistra vedi che ci sta un pezzetto eh allora vedi che si può tutta velocità eh se non so se ce la puoi si no vedi no perso ok dubito oh merda invece intelligente cazzo intelligentissimo e scrivi tu a Silas ma solo un messaggio a Silas ma scrivi chi ha che scrive a Silas ho presentato dimmi se ti ricorda qualcosa questa scena qua che sto facendo ora oh merda ma sono già qua è bellissima ma ci hanno attaccato casa ah no siamo noi con l'838 non abbiamo attaccato l'838 e poi dimmi se ti ricorda qualcosa a quello che sto facendo eh power games ragazzi c'è la polizia a casa nostra ragazzi ci stanno attaccando ragazzi oh c'è la polizia un po' mi si è data con l'auto qua oh aspetta ci siamo scrivo si ok bisogna andare sul tetto però ahia ma che cazzo c'è crack i mezzi devi cambiare radio stupido scemo ma dai come fai a morire qua porco due sono full jubbo dai asperhammer ti sposto il camion sali da qua oh attento si sono senza jubbo adesso non te lo puoi givare oh scusami non te lo puoi givare un jubbo che è pieno di mk2 qua dove 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 è sopra porta meno una caro ce l'avete no dai io io una e poi forse venite sopra venite sopra ma chi chi l'ha preso stmk2 io no c'ho il jubbo bella che la voglio sta nell'inventario ce ne sono una trentina apri a me non è una caro ti devo riassume ti devo riassume ma no lascia così raga stanno attaccando preparatevi non vedo che stanno non arrivando io non c'ho il jubbo mi si è buggato mi si è buggato mi si è buggato mi si è buggato mi sentite in radio chi c'è in questa radio io oppure la mia mi si è buggato ti sei buggato ti sia buggato si è buggato c'è buggato cos'è buggato ��록�' Aspettate un attimo che ho crasciato mezzi Oh merda eh Dove sono? E' uno in moto, e' uno in moto Io sono senza jubbo Ma è una donna? E' il diavolo E' lo demonio eh Nooo, non dov'è? Eh... Che shot Sì ma non è servito Non è servito Diavolo, mi puoi chivare il jubbo No, purtroppo non posso chivarvi la roba ragazzi Ok, il jubbo non ce l'ho più Eh, non ho ancora quei poteri Quando al giorno ce ne avrò vi chiverò tutto Però... Non puoi chivare per caso 10 milioni No, non posso chivare la roba Posso mangiare le vostre anime dall'inferno e tornare Ah, ci sta Però, a parte quello, purtroppo Bella moto comunque, bella moto di merda Tony, grazie a tutti Non l'ho rubato a uno, ma c'è una strada Era vicino Dietro il 16 c'è stato Lost Che sarebbe una... Questa è una... Questa è una... Questa è una... Questa è una bella cosa Guardate, non mi muorete Vengo subito Eh, ma... Mi stanno saltando Mi sei canata d'inferno Eh... Vai schifo, vai E questo era pure piccolo Eh, come volete difendere da questa? Eh, quando ci sparano noi cerchiamo di ucciderli Se li uccidiamo abbiamo metto Quindi io farei gore E' amare che non t'ho mai messo a capo per acciarmato Devi andare su quel tetto lì No, beh, prendiamo le due Due stanno sussidetti o uno E gli altri difendono a casa In Hc Eh, unica Cazzo si sai questo Ti faccio salire i viragini Vieni segui C'è qualcuno Fate attenzione, mi senti il ragno pizzicano Sto arrivando Samira, seguimi Ti faccio salire io Non c'è stato fatto Ma mia Sono arrivato, eh Dove stanno? Ah, poi dove ci mettiamo? Eccomi, regà Ah, roba vuoi su, ambo Sono arrivati Eh, regà Guarda quella radio, no Sto arrivati? Guarda come vuoi Ho sentito una moto qua dietro La mansione piccolina Ok Io non c'ho il giupo, mannaggia il cazzo Tu l'hai dato a me, ma fai G Vabbè, ma tanto affidati Cosa? Give G, scrivi G, G, I, V, E, G Sì Vabbè Sarà 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 E' una malata E' una malata E' una malata E' una malata Sì 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 Marcone Buonasera Ammere Gli altri Subasso Ma di nuovo Ma porca miseria, come è possibile? Grazie per il like Grazie per le 50 bombe, bellezza Ok, adesso dovremmo essere tutti uguali Così adesso dovremmo sentirmi bene raga scusate ma avevo un audio buggato Oh ma ci stanno Hai scritto Silas? E' uno tipo del giornadino, a me la chiamo Ha scritto che arriviamo Ecco, sono qua fuori raga, sono qua fuori Grazie Dove? Sto sparando, Napo, sto sparando Ok Erano arrivati Ma vaffanculo che pare Manco schiacciato un cazzo di tasso per sparare, oh Giubbo di merda Questa che l'ha fatta? Ma questo? Aspetta 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 Un secondo, facciamo una prova Pausa un attimo Ah, ma era un hacker Era un hacker Era un hacker Ok, aspettate Ok, rinizio, aspettate Ma no, ma... Ecco l'altro, c'era l'altro T'ho attaccato 12 volte Ehi... Sì, ragazzi, rifacciamo perché io ero un talento in Godmode Ah, ok, ok Ci sono stati poi problemi tech No, ragazzi, io non ce l'ho il potere del Godmode Però ogni tanto Abbiamo perso uno dei nostri Menzi, dove cazzo lo sei? Sì, me lo vado a prendere io Lo metti Eh, raga, scusatemi, non sapevo di essere in Godmode Ma i Giubi qualcuno di voi li riesce a chivare? Penso lui Chi? No, lui non può Io penso che ero lì sopra Che stavo parlando con la chat Facevo così Mi piace libero Devi andare in caffetteria e dire Perché Davide non può fare l'admin? Te chiami Davide? Davide, ma gioca con loro Questi sono i siti scendomi No, ragazzi, ma io faccio cagare Ma non importa, anch'io Vento schifo Vai, vai, dura di più Domani, domani te faccio diventare co-founder No, 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 co-founder No, ragazzi, intanto vuoi blu La mia riposizione Eh, sì, ma un Giubbo mi serve Giubbo, ragazzi Eh, neanche ce l'ha Senza Giubbo Io gioco senza Giubbo Tanto io so No, no Vabbè, con chi sto? Andiamo, dai Con noi Ok, ok, perfetto No, ragazzi, però queste cose a me non mi piacciono No, noi siamo veri vestiti di scuro, per favore Come facciamo a determinare che è iniziata l'azione Senza scusare la certo annuncio? Eh, volte tre colpinati Ok Schive Davide, scrive Davide Ragazzi, scrivo io, scrivo con staff e scrivo iniziata Ok, grande Eh, o scrivi via, scrivi via e basta No, no, scrivo iniziata Scusa, ma Silas qua ci manca, non c'è Silas? C'è, c'è La scimmietta, bro Ah, la scimmietta, ok Ah, prima l'ho fatto io a Silas Nascondetevi, ragazzi Eccomi Fatti prima la scimmietta Ah, avete una radio? Avete una radio voi? Sì, sì Allora, entriamo tutti in una radio, dai Così siamo atti, facciamo No, no, no Tutti lo stesso, no No, non si sapete Eh, bravo, no, 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 no Siamo neri, loro blu perché è la teglia la maglia Facciamo queste cose Vabbè, allora, diventa un bordello Blu, andate via voi, parlo un attimo con quelli scuri E mi faccio dall'altra Esatto, così mi piace Certo, certo Ok, bug abusiamo, ti do la mia, io non ce la vai Ok, 111.1 Eh, maledetto adesso, è stato benvenuto Ah, è un assalto così, per poi, non è che 111.1 Esatto Vabbè, 10.1 Eh, ma non cambia un passolo Ok, andiamo a nascondere, andiamo a nascondere, andiamo a nascondere pronti Ma io sto dentro casa perché prima mi sono fatto Oh, lui mi ha salto Ok, allora, sto per dare via, sto per dare via Sto per dare via, sto per dare via Dal via Dal via Lato sinistro che arrivano, dove stavano prima? Lato destro, destro tuo Per me è sinistro Ok Verso l'osservatorio comunque, verso non il mare, l'altro lato Mi sa che sono andati verso l'ingresso principale? Caro io non li vedo, caro Eh, però Penso l'ingresso principale Eh, che palle Ma che due coglioni Ma che palle, non riesco mai a sparare Madonna che due palle, oh Mamma mia E sto rompendo il cazzo raga io Non sparo niente Mi serve una mano a Marcolino? No, tra anche Marcolino stiamo facendo Sì, io poi se vuoi entrare, vieni Sto facendo un evento così a casa Non so che vuoi fare qualcosa Ma minchia, è una schifezza Sto giocando malissima Non sparo mai niente Manco parte, sono già morto Non ho ancora sparato un colpo Mi ha già di nuovo perso Ah no, c'è ancora uno qua dentro Ho visto nelle scale C'è mezzi qua dentro forse Ok, finita No, non riesco a sparare un colpo che sia uno Ma puttana, ma che palle Due volte che mi sto per posizionare Puff, voglio prima ancora di sparare Uno, due, otto, sì Non mi devi parlare Non ci faccio cacare No, ma non ho sparato un colpo Manca uno Che è, che manca? Facciamolo al contrario, no? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Ah, si diceva No, si diceva tutti Vai, vai Facciamo al contrario? Ah, come vuoi? Ma io devo andare a prendere i proietteli Ma al contrario? Eh, ma io non ho aspettato No, facciamo un'altra difesa Ho aspettato, ho bisogno di proietteli Non devo andare a prendere i proietteli Aspettate, dimmi il cumirino Vieni qua, vieni con me, vieni con me No, li vedi a prendere No, li vedi a prendere qua, è impossibile Aspettiamo 300 qua, dai vieni Ah, vabbè, 180 Questa casa fa proprio merda da dire Eh, te l'ho detto No, lo fai a difendere Facciamoci attaccare a noi Adesso Ah, dopo, dopo facciamo Sulass, sulass, munizioni Io sono Silas, tu sei mio nipote, come ti chiami? Sulass, sulass Munizioni assassini Oh, prima lui l'ho visto al 648 Che sono venuto a trovarti Eh? Me voleva sparare o? Eh, lo so, è aggressivo Me voleva sparare Oh, non è vero Ah, me lo so, lo conosce, lo conosce le Sulass Il mio nipote Ma che voci n'ha? È piccolino lui Aspettate, ma io la voce è conosciuta, lo sai Parla, chi sei? Però, però, è la persona più matura della mia fazione Come ti chiami? Sulass Ragazzi, aspettate due minuti, chiamo altra gente Adesso sta arrivando, sta arrivando uno dei nostri ancora Eh, ma Davide, gioca e ci stai Fatto un set skin Allora, andiamo Fatto un set skin In questo punto pure Aspettate, aspettate, aspettate 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 Tipo, mi è, ma non so farlo Vabbè, se ne chiamate uno, ragazzo, ma pari Come faccio a far venire uno qua, ti parlo qui? Sì, un attimo solo Aspettate Bring Bring e poi lì E' Marco Lino, lui è con noi Marco Non si sta ancora così Ma chi è, chi è, chi è? Marco Lino No, eccolo l'altro Ciao, Marco Lino Ciao, Marco Lino Adesso siamo sei contro sei, dai Vieni qua, Marco Presentatemi, presentatemi quei due Mi senti Marco, parla? Sì Tu? È inutile che mi scrivi sotto al Montage Marco Lino ti mafia Vai a Capandere, capito? Mi scrivi sotto al Montage Ricordati, Marco Lino ti mafia Dai vai Silas, che siamo insieme adesso È arrivato uno dei miei Illustra, illustra e le insegno una cosa Allora, mira, shifti e fai Allora, devi fare la Capriola buggata con la radio ora Sì, e poi mi faccio anche un cono da solo Mentre faccio la Capriola A me me l'hanno insegnata i miei, guarda Vai, vediamo se te ne insegno bene Uh, quella radio, mettici la radio, mettici la radio Eh, che cazzo Uh, madonna Silas Dai, andate a casa Questo Hammer, più gli insegni le cose, più se le scorda L'ultima volta che ho sparato era all'inizio della V3 Che cazzo, devo dire io Ma poi è diventato un Maranza Lui mi fa col taglio, guarda là Opinion 12 Oh, c'hai l'aria Sta arrivando l'aria Col baffetto sta Oh, ma in che ora ti sento? Asala Caleri 1, 1, 1, 1, punto 1 Eccola qua Minchia, ma sta muore Oh, perché è morto? Gaglia bianchi Gaglia bianchi Gaglia bianchi, vestita in tuta black Con dei tacchi Sopra Di lustre Oh, c'è il dragone Mezza la gamba Non c'è, ti ho detto che c'è una nota, sei morto Vai, non c'è, vai Sopra 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 Mi spesso Luca che fa, viene qua Eh, mi spesso Vai tu, vai tu, Stormer No, vai tu, zitto Mi fa fare i colpi, cazzo l'ultimo non c'era non l'ho capito oggi ho vagabondo e sogno non ho capito che bisogna fare io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro una po' prima mi veniva da dire oh silas andate un secondo vabbè ok vabbè vabbè ci sono pure troppi però si si che facciamo prendimi noclip attacchiamo noi allora ha detto che dobbiamo difendere ebbè prova è giusto per sto come noi dove siamo noi 1 2 3 4 5 siamo 6 adesso dai noi noi siamo 7 abbiamo un altro che deve arrivare che fai 7 contro 6 dai vai uno di noi 8 contro 6 l'errore del figlio di si ma guarda guarda in caso uno di noi passa con voi aspetta ci vestiamo di nero allora samira stanno con voi siete 8 così e noi siamo 7 ok tu fai una cosa se non riesci a gioca normale non ci sta a sentire nessuno davide ti sto a pallo all'orecchio mi raccomando eh eh dici dici usa i nomi usa i nomi bravo cazzo voi non l'avete capito io pure con i nomi mi mettono a te io sono proprio vabbè ma almeno gli spottici gli spottici gli spottici no 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 ma io sono fai una cosa così eh non lo so se hanno fatti i carichi devo poi sentire domani che faremo un po' di rp si può stare anche in casa spero di si che che in casa no sempre furio allora ok che mal fos vai regà attacchiamo noi regà andiamo poi grazie noi difendiamo attacchiamo regà c'è qualche buon anima che ho fatto per me ho visto che la averi un po' dispiacciuto perchè non sei riuscito a fare niente stai vicino a me e ti prometto che farei una kill no ma non è a fare la kill non sono riuscito a sparare tutte e due volte che mi stavo coprendo a terra neanche questo tipo di iniziale tranquillo pur che inizia ci sarà una bella fine sii dai dai ok caro vado fuori vado fuori Vengo anch'io Marco lì con te Sta pure Marco, ma ha iniziato, non ho scritto, no? E' meglio di noi, ma ha iniziato! Vabbè, ma richiudiamoci, è tranquillo ma Raga, sono sui testi Iniziato, iniziato Alta con noi Ma come sta con noi lui, dopo tutto il mondo Abbiamo passato insieme Oddio, vabbè, capirai Non lo fai tu quando loro Vabbè, fra Ma ci hanno dei loro fermo Rapparagli Rapparagli E' iniziata? Si Raga, radio, radio 111.10 Ho messo la pistola Solo pistola Fatti uno Fatti due, fatti due Bravo Io entro casa Vieni qua C'è uno qua sotto il muro Ma c'è uno dentro casa Ma non c'è uno dentro casa? Vabbè, si passa Minchia Guardalo mezzi, guardalo Eccolo Fatto, 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 fatto Minchia, mi ha salvato la vita L'ultimo, l'ultimo E' dietro l'albero E' dietro l'albero Lo vedo qua, dietro l'albero Fatto, fatto Minchia Dov'è, dov'è l'ultimo Fatto, fatto Vai, io non ho spannato un colpo Tango due, petto mio Fatto, fatto Teo Grande Ma c'è uno dei nostri col casco Con lo scarro, chi è? Come con il nostro Con lo scarro Con lo scarro Ma non ho spannato Ma no Io non ho spannato un colpo, vero, che fallo Andiamo, l'abbiamo fatto uno Dai, ragazzi Vabbè, questo è giunto Vabbè, 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 vabbè Io, raga, ho fatto Tango due Non mi dite bravo? Bravo, bravo, bravo Ma è troppo facile, poi È troppo facile Cioè, è difficile difendere, c'è una merda Eh, no, ma sai perché è difficile Non sai dove metterla Se facciamo 7-0-3, Galileo, Galilei Bello Bello, bello No, che fuente No, che fuente Quando andiamo su Phoenix a sto punto No, ci sta, guarda A sto punto andiamo in osservatorio, cioè Un bello osservatorio, raga Ci sta, bello mio Vai, raga, prendiamoci tutti in braccio Vai, vai, vai Ma dove dovevo andare? All'osservatorio, bello Ma quale? 7-0-3, 7-0-3 Vai, tutti in braccio L'ultimo deve essere uno staffer che ci prende, raga Esatto Eh, vabbè Eh, ce ne hai 3.000 qui Eh, vabbè, sceglietevi quello che vuole andiamo qui Vai, tutti in... No, 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 raga, raga, facciamo una sola fila, raga, una sola fila Una sola fila, raga Allora, vai, fate due file, fate due file No, aspetta, aspetta, aspetta Ascoltatemi 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 Alla sinistra di colui Alla spazio Alla spazio Voi due, andate direttamente là Ascoltatemi Ascoltatemi Ci vedete Vai, prendilo, prendilo Sto treno umano Merino Prendetevi tutti Ma lo facciamo più grande Facciamo pure un'immenso Ah, vai, vai Alla sinistra Vai, dai, ok, ci mettiamo anche noi M***a, quello sotto è forte Che era la pila Quattro per la persa Madonna, posso sopporti? Ma quando sopporti? Madonna, che impressione, vadaaa Aspetta, premio di premio di aspetta dopo... No, quazzo Una Rolas bug, è davvero Hai una Rolas bro? Vai, Silas Oh, chi è che fa? Vai, portaci Madonna, ci sono cinquanta adesso Mancano due persone Vai Lato sinistro Dalla spalla sinistra di Silus Vai, vai Così, così Prendi No, stiamo andando all'osservatorio Ok, ora Vai, raga L'ultimo Vai, vai Ma raga, pesate, cazzo Ci facciamo una foto Fortamente densa Ci facciamo una foto Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Oh, fermati Oh, fermati Ma cosa dobbiamo fare? Non so La sinistra Spalla sinistra, sì E mo fai una capriola Mo fai una capriola Scusate Mamma, vieni a me Non mi volete No, lo tolgeravate la musica Ok, ok Venga a Capriola Capriola, capriola Ma, 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 ma Capriola Oh, ma, 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 ma venite con noi? Sti bastardi Buco nero bucon e adesso Che cazzo facciamo tutti a 90 quale mezzo? Ah, raga, siamo sotto! Aiuto! Ma perché siamo messi a 90, io? Ma pure io! Io che mi toglie da qui! Io non voglio saltare tutti! In tutti i sitcar! Ma hai venuto fuori in paracadute, c'è a volo! Ma perché? Perché? Ah, mi è venuto fuori, ho detto, vabbè, lo apro, che per me ne fospe! Volevo vedere cos'è! Vai, il 703! No, non c'è andato quello in sitcar! È un macello, se si stoffa! C'è un posto dentro, vabbè! Vai, vai, piedi! Oh, merda, con l'è sceso! Mamma! Ah, in realtà! Ma no, ma io ho capito perché abbiamo fallito, perché... Chi ci ha te trasporto... Eh, non c'è neanche tipo... Eh, non c'è neanche... Non c'è neanche doveva fare sto... Diavolo, l'hai fatto Goku o... Ho fatto io! Ho fatto TPM! Eh no, dovevi fare... Ho fatto TPM! 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 Eh, ma tanto ormai il full rp è proprio full qua! Cos'è il full rp? Cosa hai caricato la mangua! Capirà che stiamo... Ci stiamo facendo warzone! Abbiamo... Abbiamo perso il diavolo! Vabbè! Vabbè, ma le stiamo facendo di... Vabbè, dai, dai, dai! Vai, dai, dai! Vai, dai, dai! Vai, dai, dai, dai! Vai, dai, dai! Vai, dai, dai, dai! Rega ma i viola se ne sono andati un po' dei vostri Silas? Viola? Non c'è manco Silas Sto qua Ah ci stai? Che è i viola? Ma guarda Ma guarda Ma Aspettate Ma Noi vi Mi avete perso per la strada Aspettate Vabbè mi avete perso per la strada Mi sono trovato improvvisamente in un'altra parte Da solo, tutto in buio, ho avuto paura Da notare che io a quest'ora stavo già dormendo Cioè Ila mi ha contattato e mi ha detto Eh ciao vabbè dai Ferma, ferma qua, ferma qua Nooo Ferma qua, ferma qua Facciamo le squadre va Eh ma mo son pochi viola eh Ma chi sono sti viola che poi son blu? Ma siamo tutti di me Ma io li vedo viola fra Se hai gli occhi a puttani Ma se scriviamo vabbè Io vedo le cose viola l'altro Sono blu No blu Siete blu serio? Questo è dal tonico Oh merda che è molto grafica bella che ho Fanno i video in cui Vabbè noi siamo 1,2,3 Quindi come ci dividiamo? Eh ragà sentiamoci un attimo E se lo facciamo senza maglia con la maglia Eh sì vabbè facciamo le squadre mister Ma no Voi siete blu raga Non facciamo scadermi Se sono pochi Senza pantaloni Ma tanto attaccare comunque sempre No No Sono prossimi 4 Eh sì gli altri sono Gli altri stanno sperando che entrano poliziotto in città Alle 2 No Per fare Ma che cazzo ne so Per fare qualche la ril Fermo Marco Fermi che ci sto condannando Eh no Non voglio vedere qua No Non voglio Voglio non andare a fare Siamo 12 Siamo 12 Perfetto Raga Se vi sei Perfetto Eh vabbè Si fa 6 Cazzo maglia E se con Dai Io Ma che tu Ma tu vai dormire Dai 4 di Silas Ma 4 di Silas Ah ma non è pure Ila E l'altro E voi No Stamina Ah allora va pure Lei e chi ci sta Poi tu Stamina E lui E lui E lui E lui E lui La squadra più forte Perché faccio cagare E tu stai con noi E noi Chi Dovete 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 La maglia Scuri No E so che Mi devo Dovete La maglia No Ci dovete La maglia Ma Con gli agenti Va bene Andiamo sopra Andiamo Andiamo Vai Andiamo 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 E Riga chi è che stiamo Con loro Che L'ho Deve L'ho Questa Tacchiamo Noi Fanno i video Un po' di Certo Tacchiamo Noi Tacchiamo 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 Oh Merda Tacchiamo 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 Ma bro Ma perché i vetri da lontano sono indistruttibili e da vicino no Guarda sto pelato Oh raga ieri ero al mare c'era un pelato che rifletteva la luce fortissimo Era bellissimo Io sono pelato E quindi sei bellissimo Mi risperdi solo addosso Ciao Oh Io ci sono Eh date il via No Ma il via da qui bro Eh bravo ma non ci diamo uno sparare Non ci diamo uno sponchi là Quale è il problema Ma è via Oh fra chi viene il set Chi viene il set Io sette Io Io vado tre Io vado tre E anche io Ok iniziata Ah io sette Ma se mi sparano da qua Qua troia No eh Incazzo Sì bro sparano Sparano Sì Vai 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 Passa passami Fermo qua ma Passa Sali 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 Marco Sali 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 Io sono Occhio Marco C'è uno da me Fatto 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 Bravo Bravo Guarda Trovo a salire pure io Normale Trovo a salire pure io Normale Raga non mi seguite Dove vado io Ecco a scuola Sette Fatto un altro Ciao Faccio a scuola Sette Puscio 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 Eh fra Sono quattro Puscio Puscio Ho scuato Uno sopra Uno sopra L'hai visto L'hai visto Quello sopra Alcun altro Buro No non si può scavalcare Quello Ma mi stanno Stando a me Fatto uno E dove Cosa stanno È finita Ah ma Dove sono Ma Fatto uno Uno sopra Uno sopra Uno sopra Allora Di poco È sceso A sinistra Dove è a sinistra Io Merda Finita Regalami colpi Hai visto come ho giustiziato il signor Il signor questo Napo Il signor Hai visto come lo giustiziato Ma il signor Ma il signor Ma il signor M***a dopo Ho giustiziato Abbiamo vinto Sì Veramente Cosa Andiamo a attaccare Di nuovo Andiamo a attaccare Di nuovo Ok Vabbè Facciamo Due Due Beh Rifacciamo Ragazzi Io sono Bagato Per colpa Di stone Scemo Vabbè Attacchiamo Di nuovo Io attacco Con la Fmg No mi dissocio Davide mi fai un i al Z1 Quattro Ah voglio Andarlo in attacco Regà voglio Andarlo in attacco Ma scatti No 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 Oh Marconino Pronto Rami Vole andarlo Allora Facciamo Andarlo Dai Dai No Buona Però io sponchillo Come Sponchillo Come Quindi che facciamo Siamo in difesa In attacco Difesa Ma che io sponchillo Ma che io sponchillo Come Madonna Allora C'è un Dipesa Sponchillo Sì bro A me sì No Non è vero Sì Mi hanno sparato E mi hanno messato Tra mi Un Vabbè Vabbè Però Dai Non li sparate Non mi Spara un colpo Se muoiono Con un colpo È colpa No No Prima Prima E c'è Sta Raga E tre Lato sette E tre Lato tre Io sono In cima Al mondo Ho una Nonna Quella Lato sette Non so Quella Lato tre C'è scritta In una mappa Tre sinizia Tre a destra Ok Iniziata Voi strate Lato tre Nel lato sette Io guardo Le scale No No Aspetta Uno sette Uno sette Ok Prova a piccarli Mentre vanno Prova a piccarli Mentre arrivano qua Eh ma stanno ancora là Ma io sparo Se si nascondono così Posso sparare Sì Eh vabbè Sì Sparo Per me I colpi Però soltanto Stanno salendo Sette Sette Eh Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Farò Tre Pure tre Pure tre Li vedo io Ma dove sei? Fatto Di seri tre Fatto uno Sono saliti tre Dove? Dove? Eh La scala Ok Eccolo Fatto Tre indietro O fra tre Tre ancora Copro sette Copro sette Eccolo La vedo La vedo La vedo Da lato sinistro Dove è? Lato sinistro Nascosta Dietro Eccolo Levate Fatto Che resto è finita? No Non l'ho chiedente Magari Non facciamo la chat Vabbè Però la chat è solo nostra Non è che Ok A me non mi sembra finita Io non ho fatto i tre Voi? Io niente Finita 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 Ma in difesa è troppo Io non lo gioca nessuno Vieni qua Avrò fatto così Guarda Mi dispiace Quella che avrò la pagata Ho tappato uno così a casa Ti colpi invece Dueventi grazie Dueventi 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 Anche a me Dovendo a prendere un paio di centinaia di quintali di munizioni Non è che c'è tipo un po' di munizioni Eh no Non ce l'ho Dobbiamo Aspetta Aspetta Chiediamo a Sammy Cioè Sammy Aspetta Aspetta No fai un'altra cosa Fai un'altra cosa Bro Fa un'altra cosa Torneo estivo Vabbè Sammy Sammy Scusa per come tu ho tappato Scusami veramente Adesso hai anche salito sul cornicione Sì Fai una cosa Tu volete quelle che prendiamo Poi te le vieni a riprendere a casa nostra E le edibili Ok L'ho rapito L'ho rapito L'ho rapito Il signor principe È il signor più ricercato di tutta la città Annaggia Non riesco a sparare Perché? Sparo male Fai un po' di flessioni Magari Scaldi 2-1-4 Regà chi serve le munizioni Munizioni 1-6-7 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 Beh regà 3 a testa abbassano per moda Devo annientare il nemico Vieni qua No Vieni qua Napoli Munizioni Ecco mi sono qua 175 L'obbettia che è annientare il nemico Vorrei capire Prima ti sape qualcosa Un po' sto posto Non deve rimanere nessuno Non ti stiamo 1-2-1 Un po' munizioni No Ok Scusa bro Davide Ok perfetto Raga Che so fare un attimo Io attenzione Vabbè Vabbè Raga sapete che io non riesco a parlarlo Difendi altro per noi Vadoo stata cargadona No Ma che nome c'hai? No Che è 2-2-7 Non è nostro L'attacchiamo o difendiamo noi adesso? No Sì Vogliamo pure di attaccare Attacchiamo Lui è l'attaccare Lui è l'attaccare Lui è l'attaccare Raga Però è meglio fare tipo 2-2 Non uno Ma siamo già qua Dai siamo già qua Li difendiamo Ah facciamo 2-2 Vai Difendiamo No No E'rebbe questo però attacchiamo Dai Difendiamo Difendiamo Siamo già tutti quanti qua Li difendiamo Difendiamo noi Siamo già tutti quanti qua Facciamo 2 attacchi e 2 difese Facciamo l'ultima Di difesa Poi riandiamo 2 D'attacco Ok Siamo noi Siamo noi Sì sì Beh andate I miei passi della tastiera Sono tutti bagnati Cosa vuol dire? Ho detto a full Ti sudi Ti sudi come un po' arco Ti sudano le mani No invece no Sono belli asciutti Perché sto celando di freddo Ma zi Dato che questa sarà l'ultima volta che forse ci vediamo Ma che fai? Che ha dato pure 20 pacchi Sì 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 Starta subito Quindi Vai di là Oh Ok Stati pronti Stati pronti che startiamo Vai Aspetta che c'è Samy qua A me non erano buoni colpi Oh Napo Ok Samy ma tu stai con noi? No Signora Maggi Doi minuti che Samy si è bontano Buonanotte Andre Iniziata 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 1-3 1-3 1-3 Regà non piccate Fatto uno Fatto uno Fatto uno Ciao Ma si può fare o no? Eh fra Nel momento che loro ti vengono dietro E ti No bro Ma no Ma Marco Di come si bega Poverino Eh lo no Dai non Mi sponchillate Dai Porca Sponchillate No Mi spavano i colpi Da Eh Vedete No Eh da Vabbè Tutti morti? No No loro No loro Non noi Forse si 1-3 C'è abbiamo uno Questa Attento 2-2-2 Vedo Vedo uno Ne vedo uno Ne vedo uno Sta sta lì Sta sta lì Aspetta Prima Sta sta lì Quale l'altro? Ce l'ho io Copri Dove sta prendendo Uno sotto È morto No Marco Non sono morto Ma non muore Raga L'ho preso in testa Mentre saliva Che non sparava Non muore Marco Non lo piccà Non lo piccà Ragazzi Copriamo Ce l'ho io Copriamo le altre scale Ma non è Ma è solo uno? Sotto c'è Il babbo Ma c'è Stamma Fatto 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 Uno Fatto Finita No ce n'è ancora uno No ce n'è ancora uno Qua sotto blu Ah ok Io la pusho Raga Ok Dietro Dietro Io questa sta di scale T'ho coperto il culo paura Mamma mia Marco E' sceso si la stietro Boom Oh ci stanno comunque a foste cose Così ti impari pure un po' a sparare Cazzo Vero? Sì sì ci sta Ma ti sei girato C'è la vento di stasera Mi è piaciuto Sincero Due belli fatti eh Questo qua proprio bene Sì sì Oh è sceso con un merone Tancano un po' Tancano un po' Andiamo in attacco Non è finita ancora eh Non è finita Come no? Sì 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 Non è finita? Non è finita ancora eh Non è finita ancora Dici sì La straga Ma come no? Eh dici di no Ah Vabbè Mi sa che ne ho visto uno sopra Ne ho visto uno sopra L'osservatorio Ma che è schifo Sì Spera me Dove dove? E' colla Fatto 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 Ma tancano un bot Tancano un bot Tancano un bot Non ti salverà la pula Tancano un bot Carattano E' ben scritto? Eh no no Cioè è partita troppo presto Non ti quanti Non ti quanti Vabbè dite Dite che non siete pronti Scrivete un'ottima no Aspè aspè Che cazzo ne so Oh pezzo di me Mi voleva la vita Oh scusa cazzo Oh cazzo Michia Vuol dire che devi fare No con la pistola Cazzo Bello Ho tappato io Sì L'ha fatto tu? Sì Stavi prendendo Malcolino Dall'alto Dall'alto Caro Caro Te puoi fargli Alla Avete fixato Bello Così mi piace Gli altri Così mi piace Così non bugga Puoi fargli Alla Dai Sì Maria 160 Ci siamo Dai 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 Se ne sono andati tutti Sì Sanno tutto Tutto Ma cazzo Andate sopra Andate sopra Andiamo sopra Andiamo sopra Ma manca Davide Ora che ma busciamoni con le auto Come si fa nella realtà Eh ma le auto Fra le auto Cioè Auto Non sono abbiato Come no È questa Io vengo con Con un micro Ma io vengo con la ruota Buona Siamo in quattro Io vado a piedi Eh ma Manca Davide Ah vabbè Beh non sto pronti Non sto pronti Fra ma così ti fanno easy In macchina No ma non penso Mi sparano mentre vado Cioè Sì come no Appena cosa Ho capito Perché non dovrebbero Gli avete sponchilati tutti Ah no Non è vero Io non ho sparato Marco Vabbè dai sali Nel caso Perché Ah ma intanto Non è Comperta Eh ma non ho potuto Davide il via Chi fa Eh perché non c'è più Eh dove è Eh beh la diamo noi Ciao Aspetti Silas 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 Oh dimmi Eh non ci sta più Davide Quindi uno di voi È strida del via Ok 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 Non è ancora via 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 Uh via Come come Ma che fa quello Uh Uh Vai va va T'ho detto Va Ok Vai Tic tac Il tempo sta scomparendo E' Tancatanga Se lo dalle Eh Eh Tic tac No è morto Dai io son vivo Tutti Tutti vivi Dai busciate No è morto Marco Molto morcolino No è morto Marco Molto morcolino No è morto Marco Busciate tu No è morto Marco No è morto Marco Oh ma questo è un amore Scusa Pato Pasta Salgo Vengo Arrivo con te Pato Bravo Salgo ancora Vai vai Puscia duro Prendi a punto Salgo 4 Vengo 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 Finiti Eh Rispettorare Con la razza Finita finita Che non ti fa più Entrare su 5m Ma andremo Come mai Ah ma Voi finiti Di non morire Io Non sei più abituato Eh ma Con loro Maledetti Mannaggia Mannaggia Eh ma è giusto Servatore Mi piacerebbe Un bello Happy meal Ti faccio Ti faccio un esempio Io Napo Con lo sgherro Io stavo In 3.0 Ah lo sgherro Che usa Più sgherri Tini Eh però Ogni azione Facciamo Buonasera Cristian Qua è macella Qua è macella Qua è macella Quando c'era la città Viene a tardi Ma stiamo facendo Un po' gli agini Adesso La mappa Di quella città Era Tipo 703 E 63 Masta Quintana Ci stava il campo E quindi Guarda che c'è un aggiornamento Di GTA E prova a vedere Che devi far quello Andre Io dono A seconda Ciao Ciao Silas Ciao ragazzi Ciao Eh zio Porta di fronte Ci vediamo in V4 Come lo vedete più No non lo so Vediamo Ah dai Se c'è qualcosa Sempre Così che si fa qualcosa Si Ma si Ma si può organizzare di più Tanto che Ma non ci siamo Sì Infatti oggi abbiamo fatto A cazzo Prevenuta carina Dai Ma pure Fra pure Un torneo tra fazioni Tipo Se cose qua Sparate Ci costa Capito Eh ma lo vedi C'è due fazioni Ma c'è due fazioni Con 30 persone Poi ce n'è due Con 3 persone Dei metto massimo Ovviamente No oggi abbiamo fatto Per dire Capito Abbiamo provato Eravamo Tipo Tre fazioni Con 10 E poi c'erano Quattro fazioni Con 2 Ma che ne so Che farà Guarda guarda Vai sono rockstar E provo a fare La Ma c'è 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 Ma io Io Quinto Mi so Pure buona Otre C'è Ma anche io Si Ho porti Dove vai Dove sei Ciò qui Ma c'è La stupassi in caffè O vai diretto Aspetta Prendi Posso in caffè Tu ghiacchiera Eh Posso in caffè Tu ghiacchiera Eh Allora Allora Possiamo chiudere Ma c'è Si si Adesso stacco Posso un attimo Chiedere Maledetti Maledetti Saluti Ciao ragazzi Si Mi sposo Soprere Per fatto Chiacchera Ok Ok Sono sposto Anche Mi sposto Prendimi Prendimi Sì Lasso Ah Ok No No Puglio Puglio Soprere Puglio 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 Buonanotte Tutti Soprò Puglio Puglio Porto Cicc E lui Morese Da solo Qua Si ha fatto Puglio Mi Puglio Vabbè Un bel Trevitra Io Vado Voi Che Siamo Sono L'ultimo 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 Trevitra Trevitra Io Ultimo Ultimo No 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 Do due spettatori non è vero se devi andare a casa me lo porto c'è l'ultimo punto a me fa un po' rosa un bel travi tra l'ultimo tanto dura due minuti c'è trecenti anni mochi due minuti due secolo abba fra un travi tratto vai napoli trovo delle squadre il serio prego lo metto io voglio sapere io voglio sapere che voglio rinistare a parte di ragazzo io voglio di illustrare il vero marcolino cambiate la diamo perché è sempre sparti ma ci mettiamo la maglia noi difendiamo noi lo difendiamo a tanto qualunque 4.4 o però che dovete andare giudicato caderno esatto esatto non è proprio quello andrea a me portaci a casa a me prendetevi per accedere di voi due no sei andati sotto mappare il porto mi ho sbagliato dove cazzo siete venuti arriviamo e è un bug bug fai tutti i due vieni qua siamo al 708 in pratica nella stradina sotto c'è un caduto qui fai flasher go q220 si è esatto fai flasher go q220 ma poi a pregno dovete rompere il cazzo bro ma cosa è un'idea di amma 4 147 214 via di ammera eh dai io devo fare 3 per 3 Dai andiamo a farsi 3v3 Io sono profissi Ora che in manco sia che lo dico Ma faccio vedere di sparare là di nuovo Oh non parli più Ma non te la fai l'ultima Oh Ok la signora qua Sono da solo Ma come da solo Sono andati Sono andati pure i napoli altri Sì sono andati Sono andati stavo mandando via Dai allora vado io con Amar Dai vado io con Amar Ma perché? Ma non pensano coltare Sono andati stavo Sono andati stavo Sono andati stavo Sono andati stavo Ringali ringali 2.20 Ringali 2.20 Ringali 2.20 1.65 Fai ring staccato 2.20 E poi ring staccato Fai ring rapido Lo si fa Amar Sì l'ho già fatto ma non viene Fai Aspetta No poi è arrivato alle 2.20 Non è arrivato Era anche lo giusto Ma poi ma guarda Era anche con l'auto Vedi Siamo con l'auto di stomaco E' morto Vado Vado Dai che puoi vado Ti vediamo nella V4 Va bene Andreone Non entri più qua nella V3 Finirti questi ultimi giorni Ragazzi ponchigliamoli Guarda che c'è fa Ma che cazzo me ne f***o Un attimo qua sotto Che ti voglio dire una cosa in più Oh facciamo quella cosa Napo Napo Ce la fate me zi Me zi Ma Marco lì ne è stupido Eh per sbaglio l'ho fatto uno Hanno detto via E lo fa La sconchillata Mi ti è cito proprio fra Ma devi citeri Lui E' una scala di 3 Guarda Che spritolati Niente Principe restami Due e venti Grazie Centoquaranta Due e venti Ma comunque era da rifare Marco lì e noi ci sono uno all'inizio Cioè Che cattivone Due e venti Ma mi stai salutando? Ma mi hai aiutato Due e venti Grazie Grazie Era due e venti Grazie Guarda Andiamo una seconda via Lasciamo tutti qua Dai basta Chiidiamo gli occhi E lasciamo i morti qua Me zi com'era già Cioè dati qua Come sei tu? Come sei tu? 167 Rianimato Dopo anche 167 Perché avete sparato Oh perché avete sparato Che cattivone è stupido Madonna c'è Mi sarà una colpa Sì e poi com'è che ti ho fatto Io ti ho un po' citato addosso Dopo Sì lo so Oh mi dai colpi Ma cosa hai fatto? 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 Ma che cazzo fai? E hai detto Tu vuoi da me? Buonanotte belli Ma come il principe ma portaci a casa? Vedo ti Pezzaci Ma portaci in casello colipo Un po' Marco Vai rega dai No 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 dai Facciamo lui Ma rega avete sparato a Fra No vado io belli Dai Fra Non la puoi fare il principe Ora pringaccia a casa almeno Tempo A me è pubblicato E' pubblicato E' pubblicato E' pubblicato Eh infatti si Non ci stava Si è puntato Facciamo l'ultima Dopo vai dormire Grazie Diciamo un'altra cosa Marco Vieni qua Fermati Si è punto Fermati Fermati Si è punto Fermati Non fiar No fiar Fermati Si è puntata Che fai? Dnps mafia Subito Dnps mafia Di sparo Si è puntata Bravo Prego Se è puntato Sei puntato Oh Sono questa Si è puntata Si è puntata Marco Lino ha rotto il cazzo Marco lì c'è un cazzo Marco lì c'è un cazzo di merda Che hai detto? Si è un cazzo Vai provaci 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 bimbo di merda Provaci E mo mi ammazza Guarda che mo mi ammazza Cominazione leggendaria Resta mi Fammi armadi per favore Due venti grazie Cominazione leggendaria Dubbio Dubbio istinto Un merda Ma perché non riesco ad andare a casa Ho messo sul gps Il due venti Poi che cazzo Devo scrivere Go Che No 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 Tpm Tpm Ah tpm È vero Ah bringaci anche a noi Fai bring C'è la 5667 Due venti No ma fai Ma scusa Bring è la 566m Ehi Quante ne volete Regà Poi che cazzo Poi che cazzo Poi che cazzo gli altri chi sono? 167, 220, 220 a mezz... mezzi di... mezzi luidi... mezzi luidi... o marco che di lì di a mezz... e non il tuo... mezzi iti... mezzi iti... o in che rialavate frati che tempo? 214 214 214 214 ovviamente trusco... oggi oggi troppo... troppo purismo ma troppo purismo che abbia spavuto tutto il tempo? no vabbè frasa ingeni te lo giuro ahia ho sbagliato vaffanculo ciao belli c'è nessuno donate si faccio secondo il caffè a salutare i ragazzi ma è un secondo che tutte le altre serie io ero da solo in assiste... in caffè c'è il disco del nostro il testatore con quelli di caffè io ero da solo che ti vedevo riammi i ditemi ma io non so no no scherzo c'è ero veramente da solo questa sera c'è una cosa mia ma andiamo tutti in avunque a traspararci con la mia fattura no 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 fai bene andrò goditi le ferie tranquillo poi ci vediamo quando è ora vabbè buonanotte amerò buonanotte belli buonanotte buonanotte caro buonanotte grazie per la live per aver visto la trasmissione per le stelline per i like abbiamo comunque quota 100 like comunque dopo la live è andata bene visto che avete lasciato il 400 quindi mi fa piacere che avete interancito con la chat mi fa piacere alle 70.000 stelle se no Omar non fa più live bravo questa è una bella idea sì allora ragazzi che dire come tutte le sere vi saluto ci vediamo domani sera in live andiamo avanti con con la storia qua della v3 e vedremo che succede vi do un bacio e un abbraccio a tutti spero vi sia piaciuta ciao che palle mi do un bacio a tutti ragazzi spero vi sia piaciuta l'idea della v4 quello poco che abbiamo visto ma è stato secondo me bellissimo da vedere e domani non so se vedremo un pezzettino all'ospedale e poi ritorneremo qua sulla v3 a giocare faremo sicuramente qualcosa domani sera speriamo che esplodessa bomba e iniziamo a vedere il tramonto della v3 piano piano tutti quanti insieme che secondo me è sempre carino da vedere un fine storia vi do un bacio e un abbraccio a tutti ci vediamo domani in live buonanotte maledetti domani